Stasera è un ospite che è da un bel po' che volevo invitare, è un mio amico, ci conosciamo personalmente, abbiamo interagito tantissime volte, purtroppo per motivi di distanza ultimamente era un po' che non ci sentivamo, ma l'ho sempre seguito in maniera indiretta, vedendo i suoi eventi, il suo sito di una delle sue community, parliamo di Marco Arena, mio caro amico, a suo tempo grande C++ divulgatore e developer, che vediamo un po' se ha ceduto al male di questi linguaggi da giovani tipo R, questi linguaggi brutti, ha lavorato in Ferrari, è un C++ lover e via, non ti si sta dietro, chiedigli perché Ferrari non vince un cazzo, è perché se n'è andato, coincidenze, non lo so, comunque, comunque, without further ado, ecco a voi, signore e signori, Marco Arena, eccoci qua. Scusa un attimo, quanti so però? Marco, un po' di più però, un po' di più. Senti una cosa R, questo amico sotto, si chiama Nick, gli puoi fare gli auguri che è il compleanno per favore, che mi dà 27 euro, poi smizziamo? 27, ok. Ciao Nick, tanti auguri di buon compleanno, da Mr. Rip, vi raccomando, dai dai dai! Ah, so 13,50 a te. Aspetta un attimo che faccio un secondo conto. Mandameli conto. Guarda, dovrebbero essere 13,50 per uno, va bene? C'hai Paypal, sì, vai, manda. Eh, va bene? Aspetta, non torna. Però in realtà, facciamo 15 a me e 10 a te, perché ho fatto più lavoro io. Ah, perché te c'hai la visibilità, effettivamente. Eh, certo. Vabbè, dai, mi cospargo il capo di cenere per aver detto questa cosa del 50%, dai. Va bene, vabbè, facciamo il 50%, va bene, Rip. Ciao, ma. Ciao, ma. Ciao, ma, Rip, hai invitato uno che qua te facciamo tutti i follower, io non so quanta gente c'hai connessa, però stai attento. Beh, al momento quanta gente c'è? 130 più... stiamo sopra i 300, ma stiamo all'inizio. Siamo sopra i 300, vabbè, dai, se può fare ancora, ma vedi che droppano fra un po'. Droppano, ok. Si droppano tutti. C'ho un po' paura. Dopo te rivelo pure ai follower come mai pagato stasera, dopo ci arriviamo su come mai pagato. Dobbiamo dirla stasera. Allora. Non hai fatto la mia NDA, quindi, così finisco. È arrivato in ritardo, è che c'ho il template, sai, sono tutti avvocati, è un po' un casino. Comunque, benvenuto a Marco Arena. Grazie, grazie Rip, grande Giorgio. Presentate un attimo. Mi presento, oddio, avvocato, mi presento. Allora, io sono stato chiamato a testimoniare perché persona informata su tre fatti principali. Uno, C++, sviluppo in C++, ma hai fatto una testa così, parliamo di C++. Community, quindi gestione, fondazione di community in Italia e non solo. Career development, ok? Tema in Italia, quindi tema che anche io ho a cuore e quindi mi piace condividere un po' quella che è la mia esperienza, quindi sicuramente sono qua. Porti sempre gente che ha fatto carriera all'estero, ma qualcuno che è rimasto in Italia? È giusto, è giusto. Approvo questa richiesta che ti hanno fatta, diciamo, che tu sei scappato, ma io sono rimasto, quindi parliamo anche di questo. Allora, C++ perché? Perché tutta la mia carriera è incentrata sullo sviluppo in C++. Dai, dai, dai. Quindi sono 13 anni, dai, 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 ci sto ancora dentro, Rip, ci sto ancora dentro. Tu mi avevi iniziato allo studio professionale di C++, io sono rimasto, tu sei scappato via, però ti perdono perché ormai fai altre cose molto più all'avanguardia, diciamo. Quindi ho lavorato... Il cuore è sempre lì. Il cuore è sempre lì. Dopo, diciamo, l'ideale te lo porti qua e va bene, ci piace. Ho lavorato in Ferrari Formula 1 e sono pronto, se tu mi dai assistenza legale gratuita, io posso divulgare delle cose, oppure vediamo come finisce stasera. Finirò i miei legali. Esatto, se mi bussano, oppure se vedi un rampino che esce dalla finestra là dietro, può essere pure che si infila sto rampino, può essere pure che devo un attimo uscire. Ho lavorato in Ferrari, ho lavorato in Tetra Pak, sono ancora ovviamente lavorando in Tetra Pak, 13 anni che lavoro in C++, poi il mio interesse su C++ arriva qualche anno prima, però professionalmente da 13 anni, nel frattempo, nel tempo libero, creo, fondo e gestisco tre technical community in Italia. Italian C++ Community, su C++, andiamo a far vedere, poi Coding Gym, wow, quanta roba, ho tanta roba, sì, se vai sugli entri, Coding Gym, e poi ci torniamo in dettaglio una volta, poi ci torniamo, ci torniamo ancora bene, e poi ML Modena, community su, per ora basta, poi fra un po' ne farò altre, che dici no, mi devo fermare pure io, sono anziano, RIP, sono anziano pure io, C'è un'altra sul machine, no, mi si è cascato sul machine, è questa qua, ML Modena, è questa qua, sull'intelligenza artificiale, e quindi abbiamo fatto Tris, non c'è due senza tre, che dobbiamo fare? Siamo qua. Tutti che svolgono l'intelligenza artificiale. È questa qua. Abbiamo già gente che, ML community Modena è stato bellissimo. Sì, è tutta gente che io ho pagato, RIP, devi sapere, quindi io ho della gente che ho pagato per farti questi commenti, ci sono anche dei bot, dovranno identificarli, sviluppare gli spazio, chiaramente. Perché stai a fare i big money con le community, ammettamente. E te credo, è certo, io pago tutti, quindi in qualche modo lo pago, poi arriviamo pure a come mi hai pagato te stasera, non ti preoccupare, ci arriviamo. Ok, ho paura. Poi andiamo per due. E poi Career Development in Italia, diciamo che è un argomento sicuramente che mi interessa, quindi è un argomento per cui posso portare la mia esperienza, per quanto limitata, se vuoi, perché ho lavorato soltanto in tre aziende, però insomma io sono un... Non ci interessa particolarmente vedere la storia, di cosa ci ho fatto, come è stato, che skill servono. Se ancora il C++ è effettivamente qualcosa di utile per un giovane che si approccia all'informatica oggi. Ma c'è anche la tazza. C'ho tutte, ma te li tiro fuori tutte. Ok. Tre bicchieroni, ma prima te li tiro fuori, tutte pubblicità occulte. Va benissimo, cioè noi, le community sono le benvenute, l'ho fatto già, ho già in passato ospitato persone di altre community e quindi a me il mondo community piace tantissimo, purtroppo sono un po' come l'Erasmus, io non ho affatto l'Erasmus e il Rosico non l'ho fatto e anche le community non le ho vissute, il Rosico non le ho vissute, però le sponsorizzo, le pubblicizzo, le proselitizzo molto volentieri perché è un'esperienza che penso mi manca nel mio arco con le frecce. Vedo un sacco di domande già che arriva, ragazzi, ma... Vai, sparamene due o tre, vai, così va. Che ne pensi dello spostamento via da C++ verso linguaggi più memory safe tipo RAST? I rastiani. E magari così rimane più lavoro per noi che fanno C++. Andate, andate, andate tutti. A parte gli scherzi, secondo me il punto è lecito, assolutamente lecito, c'è un buco di sicurezza, chiamiamolo così, di safety e chiaramente il C++ sta cercando di correre ai ripari. Strustrup, che è appunto il creatore del C++, sta cercando di combattere questa crociata per introdurre i profili. Ci arriveremo o non ci arriveremo? Non lo so, francamente non lo so, però sicuramente è un viaggio in cui dobbiamo arrivare. Di sicuro, allora, io comunque non sono un sostenitore del scegliere un linguaggio grande con la foto con Bjarne, grandissimo. Qua c'avevi, che erano 40 kg fa, tipo una cosa del genere. La sessantina di kg fa, sì. La sessantina di kg fa. Beh, però per fortuna ho trovato quello che faceva la foto che c'aveva un po' di tremarella, per cui è riuscito a farla pure male. Eh, infatti, oppure ti ha usato un 3310, non so che telefono ha usato, però sicuramente. Mi sa chiaramente. Però ce l'abbiamo anche io e Marco Fogo. Ce l'hai anche tu e Marco Fogo. Vai su italiancpp.org, ti faccio vedere una sfilza di foto con tutti quelli del C++, ora ti faccio vedere, vai. Vai su About. About. All'inizio, vai giù piano piano piano. Ah, madonna, che sbronata. Allora c'è stata la chicca con Alex Andrescu. Se vai giù... C'è anche Alex Andrescu, bello. Eh, qua abbiamo fatto il botto nel 2019 a Milano con... Eh, qui ci sono un po' di cose. No, 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 no. Fai aprire un'altra scheda. Ho fatto uno scolone, ma... Vabbè. Il marchetto quando c'aveva i capelli lunghi così. E te quando c'avevi i capelli, punto. Io quando c'avevo i capelli, hai visto? Ci sto pure con i capelli. Ma infatti, se guardi le foto con l'agente del C++, più passano gli anni, più mi decrescono i capelli. Sarà un caso, chi lo sa. Attenzione a voi ragazzi che ci seguite. Questo è un po' di cose. Ricordo... Eh, chi lo sa, se si è chiesto nel canale. Questo è Marco Foco, l'avete già visto in... Marco Foco. Poi c'è già Lorenzo Meocci a destra. Jens Weller di là. Non conosco. Insomma, ci sono un bel po' di personaggi. Poi, vabbè, c'è la foto con Sutter. Ne trovi tanti, insomma. Ah, con Herb Sutter. Con Meijer. Sì, sì, con tutti. L'abbiamo fatta con tutti. Ho voluto flexare, ma nel C++ è un po' più... Pure Milewski, ovviamente. Giustamente Ricco ha mollato per tenersi i capelli, giusto? Ricco ha mollato il C++. È corretto. C++, capelli me... Minus, minus. Giusto. Marco Foco ce l'ha ancora lunghi, Marco. Marco Foco ce l'ha ancora lunghi. Forse perché non fa veramente C++, Marco Foco. È tutta una pensione. Ma conta i ringotti d'oro delle stocks Nvidia e basta. C'ha il suo castello. Poi mamma ha detto... Stava conquistando il borgo a fianco. Non so dove sta lui in Ticino, no? Stava conquistando là. Sì, sì, ormai si è conquistato il Ticino, ha detto. C'ha tipo, non so quanti ettari di terreno. Tra l'altro il buon Marco sa... Gli ho mandato anche il link se vuole joinarci all'improvviso. Eh sì, no, e gli ho detto... Hai infame, vieni. Ma vediamo se... Ci arriviamo, ci arriviamo. Tranquilo, so che siete tutti quanti carichi. Mi interessa... Poi tu hai dato tutte queste aspettative in Ferrari di cosa si occupava, ma mi hai detto che io in Ferrari poi sviluppavo software. Magari semplicemente stavo all'ingresso e aprivo il tornello. Che è un lavoro assolutamente legittimo. Assolutamente. Ma sanno quanti che ti hai fatto tutto il software per vincere le gare. E infatti non hanno vinto, quindi vuol dire che l'ho fatto io, insomma, però potrebbe essere pure quello. Eh, è una roba, è genetica, è genetica, è genetica Simone. Oh, c'è qualcuno ha fatto appena l'interview in Ferrari. E dai, e dai. Ah, no, aspetta, dimmi chi è che così lo faccio entrare, aspetta. Ti chiamo subito. Vai, chi è? Francioso001, chi è? Di S1 con la nick così. André? Allora, Francioso001, ok? Vabbè, quanto? Vabbè, si può fare, si può fare. C'è il referro. Nel solito posto, ok? Sì, poi ti offro qualche tigellina. Ciao, ciao, ciao. Ok, si può fare, si può fare. Tutto fatto. Allora, Marco, raccontaci un po' tu cosa fai adesso. Io adesso lavoro in Tetra Pak, che è un'azienda che si trova a Modena, quindi mentre Ferrari si trova a Maranello, mi sono spostato di una ventina di chilometri per andare a Modena a lavorare in Tetra Pak, che mi ha accolto con questa avventura di portare l'intelligenza artificiale a bordo delle macchine. Quindi Tetra Pak è un'azienda che è leader di mercato nel packaging, quindi, e non solo il packaging, anche il processing, quindi, ad esempio, se voi aprite il frigo, ci avete sicuramente qualche brick che noi in qualche modo produciamo, non so, il Granarolo, oppure, che ne so, il Santal, tanti di questi clienti, e la sfida è quella di portare l'intelligenza artificiale a bordo di queste macchine che creano pacchetti e c'è di mezzo anche per la produzione di pacchetti. Il business che noi trattiamo è quello di prendere il prodotto grezzo, diciamo così, processarlo laddove serve, ad esempio prendi il latte grezzo, lo processi, lo pastorizzi, vendiamo anche quel tipo di componenti per le nostre macchine e poi creiamo i pacchetti. Quindi impacchettiamo il prodotto, tipo il latte o quello che il cliente chiede, e ovviamente la macchina è venduta al cliente, quindi il cliente è responsabile poi della sua produzione. Quindi per sfatare un mito non è Tetra Pak che impacchetta il prodotto, ma vende la macchina per impacchettare il prodotto. Ok. E la sfida è quella di prendere queste macchine e renderle più intelligenti, quindi mettendo a bordo dell'intelligenza artificiale. Questo è un po' il nostro... Questi pacchetti sono fisicamente pacchetti azionari? Magari fossero azionari, però potrebbe essere una buona idea metterci, fare un collegamento con questo tipo di cose qua. Quindi ecco, il discorso è... Che ci fa un software engineer a Tetra Pak? Che ci fa un software engineer a Tetra Pak? Perché comunque queste macchine hanno una... Intanto hanno una complessità molto interessante che io quando sono arrivato a scoprirla ho detto... Però non immaginavo fossero così ingegneristicamente complesse e interessanti. Quindi c'è tutta una parte anche di controllo, immagina, che è molto molto rilevante. Diciamo che a me piace dire questo, che Tetra Pak è un po' la Ferrari dei pacchetti, nel senso che crea delle macchine che sono le più veloci sul mercato, con tutta una serie di conseguenze ovviamente. Quindi anche qui che vuol dire? Vuol dire che C++ ci azzecca, perché? Perché per mettere a bordo intelligenza artificiale su queste macchine c'è bisogno in qualche modo di andare veloci e avere un linguaggio che comunque ha tutto un suo ecosistema solido, per cui ci sia anche un supporto, eventualmente anche da parte di librerie e framework, ma anche perché no di aziende esterne, perché non ci dimentichiamo che un'azienda come Tetra Pak, come anche un'azienda come Ferrari, non sono delle software house. Quindi il core business non è quello di fare un software, ovviamente il software è a supporto di quelli che sono i processi aziendali e i processi eventualmente produttivi in questo caso, però non è un'azienda di software, nonostante ci lavorino tantissime persone sul lato software, quindi ho diversi colleghi ovviamente, siamo parecchi, però ecco, questo è un altro fattore interessante che potrebbe rispondere anche un pochino alla domanda di prima, perché magari non passare a Rust? Sicuramente è un'ottima scelta anche un Rust, ma nel momento in cui Rust è arrivato sul mercato, ovviamente non aveva l'ecosistema solido quanto fosse quello del C++ e anche questo in un contesto enterprise, cioè in un contesto aziendale, fa la sua differenza. Chiaro, chiaro, la gente qui purtroppo è interessata alle cose becere, tipo come funziona la compensation, salario fisso. No, e siamo pagati tutto in visibilità, non ci sono, è tutto così, siamo pagati in visibilità, adesso niente di più, cioè la visibilità perché prendono la nostra foto e la mettono in giro per la città, qui a Modena è pieno di cartelli miei e di miei colleghi. Però su Tetra, ovviamente anche sui nostri pacchetti, ci sono le nostre fotografie, in qualche modo bisogna fare, riceviamo delle offerte, poi dei rimborsi spesa, delle cose del genere, dei buoni pasto, questa è un po' l'idea. Comunque a parte gli scherzi, Tetra è un'azienda che devo dire tratta molto molto bene le persone che lavorano, quindi i suoi dipendenti, ci sono anche dei bei benefit, quindi sicuramente uno dei motivi perché ha tanto successo anche proprio come azienda a livello internazionale è per il trattamento del dipendente e per il work-life balance, come si dice, quindi un'attenzione a far sì che il rapporto vita-lavoro sia ben equilibrato, che è una cosa ad esempio molto diversa da Ferrari, non dico nulla di segreto, quindi su questo ovviamente ci sono delle considerazioni che si possono fare a riguardo sicuramente. Boom di applicazione. Tu se vedi il commento che ti interessa prendi e rispondi, io c'è anche un... No, applicate, applicate. Se applicate, mi prendo un referral, ditemelo che mi prendo così, finalmente arriva qualche cash, se no sempre visibilità, non va bene. Tra l'altro, hai avuto un po' di rip effect sul LinkedIn, ti hanno bombardato oppure non ancora? Eh, ho avuto, beh, allora qualche richiesta LinkedIn, ce l'ho avuta. Ok. Ti dico la verità, le ho accettate, però lo do come pillola magari di career development, apprezzo molto di più una persona che mi scrive due righe, anche per dire, guarda, ho visto che fai la live da RIP, mi va di connetterti, di connettermi con te. Che poi se ti ricordi, RIP, come ci siamo conosciuti noi, io ti ho iscritti su LinkedIn. Partiamo dal punto lì, come ci siamo conosciuti? Io mi ricordo che c'era... No, ci siamo conosciuti noi. Allora... Stavamo lanciando, anch'io volevo essere parte della Plus Plus IT, però poi ci fu che partì per Zurigo, se non sbaglio. Sì, ti racconto bene tutti gli eventi. Allora, siamo nel 2010, dicembre 2010, io mi laureo, Ingegneria Informatica, 3 più 2, Magistrale, eccetera, eccetera. Sapienza. Il mio sogno nel cassetto è sempre stato quello di lavorare in un'azienda di videogiochi, di sviluppo di videogiochi, sogno attualmente ancora non realizzato e forse me lo porto solo qua, vedremo, chissà. Sono ancora giovane, diciamo, ho appena compiuto 19 anni, quindi va bene così. Che cosa succede? Ed incontro un professore per i corridoi, gli dico un po' questa cosa qua, mi dice, senti, contatta questo ex studente, Enrico Gasperoni, che è un tuo amico, Giorgio, come no? una persona della nostra città. Collega in Mystone, collega al Master in Videogame Development a Verona, e io ho pure scroccato la notte a Santa Monica, dormito su un materasso che ci aveva. Eh, mo' la viene a riscuote stanotte. Comunque, che succede? Succede che mi dice, scrivi a questo ragazzo che era un mio ex studente e ti saprà un po' indirizzare perché lavora in un'azienda di videogiochi. Se non sbaglio, lavorava in Codemasters all'epoca, lavorava su Drift, un gioco di macchina, contatto con Rico, e Rico viveva in Inghilterra, ma era a Roma per le vacanze di Natale. Ok, quindi coincidenza vuole che mi dice, senti, prendiamoci un caffè e ti racconto un po' di cose. È venuto lui, un suo collega sempre italiano, Rendering Engineering in Codemasters, non mi ricordo il nome, sono sincero, e la ragazza, credo di questo suo, Alessandro Monopoli, no. Sono, guarda, sono completamente incoglionito quindi non me lo ricordo, cioè nel senso che veramente l'ho proprio rimosso dalla memoria purtroppo. mi raccontano un po' di cose, insomma è stata una chiacchierata molto interessante, però a un certo punto mi dicono una frase che mi è rimasta. Io C++ già lo utilizzavo, era già un linguaggio per me molto interessante, ci avevo fatto la tesi, lo volevo sicuramente approfondire, mi dicono, se tu vuoi lavorare nel mondo dei videogiochi, parliamo del 2010, quindi lo ribadisco, devi conoscere bene C++ e per conoscerlo bene, nel 2010, mi dicono, la persona giusta per te è Mr. Rip, è Giorgio Ugazio, quindi mi dicono contatta Giorgio che è stato il nostro trainer in Milestone e Giorgio sicuramente saprà darti tutte le indicazioni possibili del caso. Cazzo, ero il punto di riferimento del C++ in Italia. Eri a un passo da tutto quello che già potevi costruire in quel momento, comunque, che succede? Succede che ti scrivo, su Linkedin, lo perdoniamo, e ti scrivo su Linkedin, all'epoca Linkedin andava, quindi ti scrivo un bel messaggione con scritto quello che facevo, ho fatto la tesi con certe tecnologie, Boost, Qtisi, Plus Plus, Seagal, buonanima, bellissima libreria comunque, e tu mi rispondi dicendomi, Marco, guarda, apprezzo l'intraprendenza, quindi prima cosa che tu mi rispondi, e mi dici, sentiamoci su MSN, MSN, perché all'epoca c'era MSN, MSN Messenger, c'è ancora tipo le mod, come no? Sì, ogni tanto me lo sogno di notte MSN che mi viene fuori, non lo so, ci scriviamo quindi su MSN e tu inizi a dirmi un po' di consigli, darmi un po' di consigli, tra cui, oggi vi costo la gente che mi scrive queste cose, vabbè, che ti avevo detto su Sutter, i Meyers, l'Andresco, tu mi dicesti guarda Marco devi studiarti Sutter, Meyers, insomma tutti questi qua e poi mi hai mandato pure un test, mi hai detto poi quando sei pronto fai sto test e mi dicesti considera che io sto test lo faccio fare nelle mie consulenze in giro e mi dicesti tre quarti della gente lo canna quasi tutto, quindi già che ti fai per aziende di C++, prossimo anno ragazzi torna la stagione del software engineering torneranno anche rip coding in public e C++ a cannone se vogliamo su C++ 26 poi fra qualche anno comunque che succede? a C++ 0x è uscito C++ 0x 0x è uscito l'hanno rinominato quindi tu mi dai tutto questo materiale mi dici studio del qua studio del là io quindi mi metto sotto piano piano e studio nel frattempo io che ero uscito dall'università da qualche mese perché poi questa nostra interazione va avanti per un paio di mesi siamo più o meno a febbraio io vi dato anche dei consigli su quali aziende applicare dove potreste applicare il CV scrivilo in un certo modo insomma vi dato un po' di consigli utilissimi sicuramente sono emozionato non mi ricordavo il tastaggio non mi caga nessuno ah ecco perché non c'avevo ancora non c'avevi ancora questa nomea di Mr. Rip che potevi alzi il telefono e prendono 50 persone capito quindi diciamo che il punto qual è stato inizio nel marzo 2011 ho detto va bene lo stesso inizio comunque a lavorare da un'altra parte tanto per entrare nel mondo del lavoro adesso in maniera seria faccio questa scelta dico inizio a lavorare da un'altra parte per un'azienda che comunque era validissima all'epoca e bisogna dire la verità è validissima anche oggi che effettivamente è Reply o piacere o non piacere però comunque è un'azienda io ho lavorato tre mesi in Reply a Roma che aveva aperto una certa filiale a Roma proprio in quel momento ok avevo lavorato in una di queste filiari Reply Reply all'epoca era un'azienda comunque che dava delle belle opportunità alle persone e secondo me le dà anche adesso quindi adesso a parte gli scherzi è una realtà che se uno vuole fare un certo tipo di esperienza nella consulenza è sicuramente un'esperienza interessante però non era quello che volevo fare io poi porterò qualcuno che ha fatto molta consulenza perché è un mondo che io mi genere un po' blasto o reputo di seconda fascia però in effetti sarebbe forse utile portare qualcuno che ha più anni di esperienza secondo me è un altro spettro che si può sicuramente osservare quindi che succede io in quel contesto lì lavoravo nell'ambito del web development che non era proprio la mia non era proprio nelle mie corde quindi con tutto che ovviamente è un ambito fondamentale però non era quello che mi piaceva fare io volevo andare a fare delle cose un po' più ingegneristiche quindi ok i videogiochi ma anche l'ambito proprio ingegneristico un dominio molto sfidante mi piaceva questa idea qui anche cose che riguardavano le simulazioni il rendering cose un po' più diciamo stimolanti da questo punto di vista anche che mettevano insieme delle skill diverse quindi non soltanto una skill ma magari più cose la matematica la fisica l'ingegneria la programmazione nei videogiochi io vedevo questo all'inizio era una delle sull'R&D sull'engine non sul game spesso sei una sì all'inizio magari fai quello che cosa succede poi mentre lavoro in reply un mio amico dell'università che lavorava anche lui in reply trova un tweet io non avevo twitter però ce l'aveva lui trova un tweet dell'allora capo dei sistemi informatici di ferrari formula 1 che scriveva cerchiamo programmatori c++ ambito simulazioni no web sembrava chiamare ore pasti ci bancava soltanto scritto chiamare ore pasti e quindi io gli scrivo subito mi manda questo link io entro sul link era in realtà il suo blog lo citiamo Pier Giorgio Grossi che saluto insomma persona squisita che è una persona tra l'altro che adesso ha fatto anche lui una carriera pazzesca è un maestro del networking che cosa succede mi risponde subito io gli iscrissi un sabato e lui il sabato stesso mi risponde dicendo Marco ti faccio contattare al più presto da uno dei miei collaboratori e non fu non fu da meno cioè lui mi fece veramente contattare due giorni dopo da un suo collaboratore per invitarmi a Maranello a fare un colloquio aspetta non è composta in banca adesso lavora adesso lavora è tipo il capo dell'innovazione di Credem adesso quindi ha fatto ha lavorato anche in Ducati ha fatto una veramente una bellissima carriera ci sentiamo ogni tanto mi ha anche scritto mi ha anche commentato su LinkedIn il post dove pubblicizzavo il fatto che ci sentivamo quindi che succede mi contattano io vado a Maranello a fare il colloquio tra l'altro il colloquio ci sono un paio di aneddoti che si possono raccontare ma assolutamente considera arrivo così arrivo bello incravattato quindi considera giacca camicia cravatta c'ho ancora tutti i capelli pieni fino qua mi faccio fare pure la foto fuori dall'entrata dalla Ferrari entrata vecchia perché adesso la Ferrari si è rimodernata ha costruito nuovi building quindi c'era un ingresso diciamo posteriore dal quale si entrava per la parte Formula 1 e quindi ho sta foto di me che sto andando per andare a fare il colloquio proprio che dice moglie vado a fare un mazzo così che succede entro io dico chissà dove mi portano chissà che cavolo delle distanze ci avranno mi portano dentro un precario dentro un prefabbricato vabbè comunque vabbè va bene uguale dico va bene lo stesso come dicono oggi vabbè entro dentro che succede che arrivo in una stanza dove facciamo questo colloquio con tre persone con tre che poi sarebbero diventati due miei colleghi in particolare un altro poi cambiò reparo e mi fecero un colloquio molto interessante perché mi chiesero sia delle cose subito on site o qualche phone screen on site subito 2011 inizio 2011 quindi poco poco affascinante se vogliamo era da poco che lavoravi sì subito on site subito on site subito on site e niente mi fanno tutta una serie di domande anche un po' per conoscermi per conoscere le mie attitudini ti trasferiresti a Maranello perché vuoi fare C++ cosa ti interessa hai fatto agile hai lavorato in contesti agile poi a un certo punto domanda a bruciapelo senti Marco ma secondo te quante sono le rotonde a Maranello ma che cazzo ma che cos'è le stime di Fermi sì era la stima di Fermi che io poi dopo ho scoperto che erano le stime di Fermi allora diciamo che io sono riuscito comunque a dare una risposta voglio rispondere io quanti abitanti non so fare i due conti sulla estensione di superficie di Maranello estimando il numero di rotonde per chilometro quadrato o per chilometro lineare diciamo una rotonda ogni chilometro quanti chilometri di strada ci saranno saranno 100 rotonde non lo so fin troppo guarda sei andato fin troppo sei stato fin troppo sofisticato prima ti parlo di come ragionai io all'epoca ovviamente in maniera errata allora intanto parliamo di tempi non sospetti 2011 2011 se te lo ricordi a Roma le rotonde non è che ce ne stavano cioè ce ne stavano ma non è che parliamo di chi fa tante rotonde quindi già quello era un discorso però feci un errore enorme quale io a Maranello andai col treno cioè mi fermai col treno a Modena e poi da Modena a Maranello presi un autobus presi un Pullman ok mentalmente mentalmente io mi ero contato le rotonde di quel tragitto lì da Modena a Maranello così non so perché ho fatto questo errore cioè ho detto ma io quante rotonde ho visto da Modena a Maranello ho visto avrò visto 4-5 rotonde però avrò visto soltanto un terzo della città e quindi moltiplico per numero per 3 una cosa del genere ma non mi ricordo esattamente vabbè gli spiegai questo ragionamento la conversazione andò avanti poi ovviamente quando uscì mi pentì ma che cavolo gli ho detto ho contato le rotonde da Modena a Maranello non quelle di Maranello però vabbè chi se ne importa ho detto vabbè ormai è andata spero non sia quella la domanda determinante quindi succede quando facciamo tutta questa chiacchierata mi dicono senti Marco ma te la senti di fare un colloquio tecnico gli ho detto beh sto qua apposta mi sono fatto 400 chilometri sto qui entrano altri due che poi sarebbero diventati due miei amici e colleghi e che mi fanno subito senti Marco secondo noi quelli che si vestono in giacca e cravatta non so quelli che scrivono il codice però già da lì avevo capito che c'era un'intesa particolare con loro e quindi niente mi fecero un colloquio tecnico che non era un colloquio alla lit code quindi non mi fecero scrivere codice non mi fecero dei puzzle di programmazione volevano però testare le mie skill di design per esempio quindi mi fecero dei puzzle di design alla lavagna mi fecero delle domande anche sulle mie attitudini e qui torniamo al discorso della non software house per esempio Marco senti ma tu come persona te la riscriveresti una libreria di trading oppure cercheresti qualcosa fuori e la risposta giusta era cercherei qualcosa fuori perché un'azienda come Ferrari difficilmente si può permettere di riscriversi a una libreria di trading quindi volevano tastare un po' le mie attitudini anche sul riutilizzare codice di qualcun altro su gestire il codice legacy io mi ricordo visto che io parlo anche di finanza trading sarebbe multi trading non trading quindi il punto fondamentale era questo qua era cercare di capire un po' il mio tipo di ragionamento il mio modo di ragionare e io quello che facevo poi in quel momento nel frattempo che cercavo un lavoro in C++ io studiavo i libri che mi avevi detto tu più altre risorse che mi ero trovato quindi che cosa ho fatto ho cercato di dirigere il colloquio verso delle cose abbastanza fresche che mi ero studiato tipo il giorno prima tipo reference counting un momento ho questo ricordo che mi ero studiato molto bene il reference counting quindi quello che sarebbe diventato shared pointer per capirci e vado a beccare proprio un elemento che era fondamentale nell'architettura del software che poi sarei andato dove sarei andato a mettere le mani e quindi quando loro hanno sentito il reference counting si sono illuminati e ho detto ah cavolo ma quindi tu conosci anche questa cosa qua tu sì sì io certo tutti i giorni ci ceno pure insieme quindi assolutamente modern C++ io mangio pane per il reference counting pane ex and res quella là esatto è una cosa capito è una cosa di questo ah vedi c'è anche il capo incredem vabbè quindi poi come è andata avanti la storia per fartela breve è andata avanti che fui preso fui preso come in realtà come esterno quindi la sorpresa fu sono stato preso come consulente esterno all'inizio tramite un'azienda però in realtà ti dico la verità non cambiava assolutamente nulla nel senso che io ho lavorato per Ferrari e basta non ho mai cambiato cliente assolutamente mi hanno anche pagato l'appartamento quindi a un certo punto si è entrato in Ferrari Ferrari a un certo punto a un certo punto sono entrati in Ferrari quanti anni quanti anni in totale cinque anni di diciamo cinque anni di consulenza e tre anni di Ferrari Ferrari di otto anni di lavoro per Ferrari sì otto anni e mezzo di Ferrari in tutto diciamo cinque anni e mezzo o tre una cosa del genere sì 2011-2019 sì l'ingresso 2011 uscita dicembre 2019 cioè chi chiede quale azienda non so se ti interessa ho cambiato un paio la prima ti chiamo T-Consulting che è un'azienda di Reggio Emilia quindi se vuoi ti racconto un altro piccolo aneddoto su questa cosa perché che succede quando vado via dal colloquio di Ferrari non mi avevano detto Marco poi se ti prendiamo ti prendiamo da un'azienda esterna non mi hanno detto niente quindi io sono tornato a casa a Roma aspettando la mail non mi arriva nessuna mail dopo due settimane dico vabbè gli scrivo io avrò fallito fammi chiedere un po' di info scrivo mi dicono no no il colloquio è andato bene stiamo un attimo ultimando le carte beh però dopo due giorni ricevo una chiamata da questa azienda di Reggio Emilia che mi dice che sembra uno il tuo pacchetto è rimasto incastrato per l'assunzione tramite noi per lavorare in Ferrari in che senso scusi non ho capito ah ma perché non le hanno detto niente no eh ma lei non sarà dipendente diretto almeno non all'inizio e quindi vabbè vado a Reggio Emilia a fare pure il colloquio con loro questa è la cosa divertente vado a Reggio Emilia a fare il colloquio con loro mi mettono dentro una stanza a fare il colloquio con loro tutto scritto era OT Consulting OT Consulting ma anche quella è una bellissima realtà eh assolutamente adesso io ironizzo un po' su questi particolari ma poi in realtà sono stato sempre trattato super bene quindi assolutamente niente da dire allora faccio sto colloquio il colloquio era tutto scritto cioè mi hanno messo dentro una stanza a fare un tema praticamente tutte domande fammi sta query SQL dimmi aspetta questo è un altro colloquio un altro colloquio per l'azienda di Reggio Emilia che mi avrebbe dovuto introdurre in Ferrari ok mi hanno fatto fare un colloquio per loro se ci pensi ha senso perché in effetti io sarei dovuto passare per loro quindi da un certo punto di vista loro volevano fare un download check se vuoi io apprezzo la professionalità non lo so però se per Ferrari eri ok è vero però se si pensi loro comunque è similiato eh comunque diciamo che quindi che succede mi mettono a fare sto tema ma che succede una delle domande era conosci qualche design pattern scrivili qua e lo spazio però era piccolo quindi glielo ho scritto un paio poi gli ho detto te li dico dopo quando va a vedere sto tema insomma il referente che doveva controllare tutto mi dice mazza questo ottimo ottimo ma non ho capito questa cosa me lo dici dopo in che senso gli ho detto senti amico mio io all'università ho fatto tre esami sui pattern avevo il professor Cabibbo che se non sapeva i pattern mi faceva un mazzo così ok ok la mia università ci teneva particolarmente Goff i Posa anche i Grasp che era un altro una cosa di Craig Larman tutta una serie di cose gli ho detto io se vuoi te li elenco a memoria cioè te li recito tipo l'infinito delleopardi però insomma dimmi te cosa vuoi sapere quali pattern vuoi sapere amico mio e quali vuoi sapere no guarda è assurdo perché qui da noi non si studiano gli ho detto mi sembra molto strana questa cosa 2011 mi sembra strana però così fu poi oggi sono leggermente in disuso comunque sì allora esatto poi sono evoluti nel tempo insomma poi ci sono tutta una serie di diatribo pattern e non pattern tutta una serie di cose quindi che succede succede che vengo preso da questa azienda inizio a lavorare per Ferrari e quindi insomma inizio il mio lavoro che è quello di mettere le mani sul software principale del team di Formula 1 per la telemetria analisi dei dati e simulazione ferma tu stavi tu eri eri nel team di Formula 1 quindi ero nel team di Formula 1 assolutamente sì ok è stato sempre nel team Formula 1 oppure a un certo punto hai fatto altro in Ferrari no solo Formula 1 anche perché le due realtà sono molto diverse Ferrari Formula 1 e Ferrari GT adesso credo addirittura le abbiano rinominate comunque si chiamano gestione sportiva o Ferrari Jazz e Ferrari GT Gran Turismo adesso non so se si chiama in maniera diversa la Gran Turismo forse si chiama in maniera diversa comunque all'epoca si chiamavano Jazz e GT che sono due entità separate ci sono delle influenze l'una con l'altra però nel comparto software le influenze sono molto minime quindi io ho lavorato solo ed esclusivamente per il team di Formula 1 solo ed esclusivamente in un certo progetto che tra l'altro l'ho scoperto essere il dominio pubblico perché se voi andate su Wikipedia e cercate un personaggio che si chiama Neil Konzen trovate che c'è scritto che lui ha lavorato per Ferrari e sviluppando un prodotto interno di Ferrari come si scrive Neil Konzen con la K che è stato uno dei primi emperi di Microsoft quindi è stato uno dei primi dipendenti di Microsoft ha lavorato con eccolo qui ha lavorato con Bill Gates quindi è uno che sicuramente di codice ne masticava è stato uno degli architetti del COM e credo anche di Excel quindi quello che c'è scritto ti dice che lui ha lavorato ha creato Vehicle Dynamics Simulation che sarebbe VDS che è il team dove ho lavorato io quindi è pubblico io lo posso dire questo lo posso riportare io ho lavorato nel team di VDS quando c'era Schumacher Todd Brown quando c'era Schumacher che cosa succede negli anni 90 succede che la Ferrari capisce intuisce il vantaggio competitivo di avere dei dati e di analizzare i dati in real time e non solo anche di fare delle simulazioni immagina che in quegli anni i dati a disposizione ovviamente sono pochi cioè parliamo di qualche sensore non tanta roba per una serie di vicende questo Neil Consen che era un appassionato di motorsport si incontra con l'allora capo di un certo reparto della Ferrari e insomma si conoscono si piacciono e Neil Consen viene portato in Italia a lavorare in Ferrari era il tuo capo tra le tonette in realtà io purtroppo non ho mai lavorato con lui perché lui è andato via non ricordo se nel 2008 nel 2009 io purtroppo non l'ho mai conosciuto quindi che cosa succede quando entro in questo team di una decina di persone inizio a mettere le mani anch'io su questo software che inizialmente aveva sviluppato questo Neil Consen ed era un software effettivamente di una potenza pazzesca il motivo principale per cui questo software era potente è che combinava in un unico programma sia la parte di analisi della telemetria che anche la parte delle simulazioni quindi mentre classicamente quello che succede è che le scuderie hanno due strumenti diversi uno per analizzare la telemetria che tipicamente è un software della McLaren che viene venduto che si chiama Atlas la Ferrari invece è riuscita per motivi storici ad avere un unico software ok ad avere un software per telemetria e un software per simulazione nello stesso programma questo dà un vantaggio enorme in termini di produttività degli ingegneri che ci devono lavorare questo qui è un software che serve a tirar fuori la performance della macchina ok quali parti cambia l'assetto cos'altro tutta la macchina tutta la macchina viene in qualche modo gestita da questo può essere tracciata tutta la configurazione della vettura e si può mettere in relazione con la telemetria che è una telemetria reale e da questo però si possono anche ottenere dei dati grezzi dei dati scusami simulati quindi esempio fammi aprire la telemetria del GP di Monaco del 2002 se avessi cambiato l'angolo di flap in questo modo come sarebbe andata la gara e poi cose di questo tipo ovviamente parliamo di una complessità molto importante quindi la cosa interessante del momento in cui io entro in Ferrari che è una cosa secondo me molto molto anche bella da vivere è una transizione che la Ferrari Formula 1 stava vivendo considera il modello che era stato introdotto ai tempi di questo Neil Conzen era un modello dove le equazioni del veicolo venivano scritte in C++ cioè il Neil Conzen della situazione si sedeva vicino all'ingegnere meccanico della situazione e insieme scrivevano il codice per fare la simulazione quindi quello che facevi tu in Milestone Giorgio per esempio capito cioè quello che tu ti mettevi magari dovevi scrivere le macchine finte però le macchine finte esatto quindi loro lo facevano diciamo provando il più possibile emulare la macchina reale che cosa succede? ad un certo punto si capisce che questo modello non scala perché la macchina è talmente complicata che mettere continuamente un programmatore per quanto bravo per quanto esperto anche di dominio ormai perché diventa sempre più esperto anche del dominio per quanto bravo non arriverà mai a livello di specializzazione di un ingegnere meccanico di un ingegnere aerodinamico di un ingegnere matematico di un esperto di gomme non è possibile quindi la Ferrari inizia una transizione verso un modello a codice generato quindi un modello in cui piuttosto che scrivere l'equazione dentro il software principale alcune parti rimangono nel software principale ma altre vengono esternalizzate con la possibilità di modellarle all'interno di tool ingegneristici fatti apposta per quello ad esempio Matlab per dirne uno ma anche altri ovviamente e poi semplicemente che cosa succede? Succede che questa modellazione viene esportata in qualche modo e poi questo artefatto viene rimesso dentro il software e a quel punto il software diventa una piattaforma che riesce ad accelerare questi problemi e riuscito a renderlo efficace uno dei lavori che ho dovuto fare io è stato quello di favorire questa transizione ok però solo per darti un'introduzione di quando io sono entrato ovviamente quando sono entrato era tutto nuovo era tutto complicatissimo però una cosa mi era molto chiara che era una cosa per me molto strana considera io arrivo per cioè con una grandissima preparazione se vuoi per quanto didattica in quel momento su C++ i consigli tuoi i consigli di altri arrivo con grande preparazione scopro però che l'interesse sul puro C++ cioè sul linguaggio C++ non è così alto e C++ non è visto come un fattore che possa migliorare la qualità del software cioè per la situazione che io ho incontrato all'inizio la qualità del software è solo regolata dal design e da tutta un'altra purtroppo è un po' così ovunque a meno che non ti metti a fare librerie riusabili generiche se vai a lavorare per qualche prodotto specifico interessano le feature e le performance le feature non è che certo assolutamente però parliamo in quel momento di una situazione in cui ad esempio C++ stava facendo una transizione dal 98 all'OX che poi è diventato 11 portandosi appresso una marea di feature che ti permettevano di semplificarti la vita molto quindi anche di depredare il refactoring enorme del codice te sparano sta roba funziona non si tocca esatto quello che funziona non si tocca però in realtà ti dico la verità con un paio di colleghi in realtà hanno approvato questa avventura di provare a mettere le mani su alcuni pezzi all'inizio e di provare a rifattorizzarli però che cosa succede appunto che il vero interesse per provare a portare avanti la conoscenza anche di C++ alle ultime feature ma anche gli idiomi fondamentali del C++ diciamo che ce l'avevo solo io questa era una cosa in realtà anche positiva da un lato perché gli altri ragazzi con cui lavoravo era intanto stimolante ma poi gli altri ragazzi con cui lavoravo erano degli esperti su altro c'era l'esperto di matematica c'era l'esperto di design ho lavorato con Paolo Volce che in Italia ma anche all'estero ormai perché sta a Londra tanti anni era un'eminenza dell'agile ma anche del buon design del software del refactoring ho lavorato in Connextra che hanno inventato i mock objects quindi ho lavorato con della gente che ne sapeva quindi la cosa bella di questo è stato sicuramente essere messo in un ambiente complicato ma anche molto stimolante ok però ecco questo ballone sta la move semantica adesso infatti gente come Paolo era gente super propositiva per dire dai è famoso refactoring quindi riuscivamo insieme a farlo io poi considero che in quel momento giusto per darti anche un po' una visione della mia vita in quel momento mi ero trasferito a Maranello però io il weekend cercavo sempre di tornare a Roma avevo la ragazza a Roma avevo la famiglia a Roma quindi cerco di tornare abitualmente a Roma questo cosa vuol dire per me come Marco Arena ragazzo di 23 24 anni che ha questa passione questa forza per il C++ ho tanto tempo libero sul treno tantissimo tempo che faccio studio provo programmo oggi no oggi mi vedo un film cioè per dirti eri giovane all'epoca ero giovane avevo un sacco di capelli infatti poi piano piano viaggio dopo viaggio mi sono tutti Marco sei del 87 sei 10 anni meno di me vaffanculo sei giovane eh sì ma a proposito ti volevo chiedere una cosa ma è vera sta cosa che ti possono mettere i soldini dentro sto twitch perché io se vuoi sono le mutande di panella se mi vogliono filare qualche banconote no e non funziona ci sono i tip ma sono digitali sono digitali ce l'hai per caso ce ne hai effettito facciamo un appello rip diamo allora per favore diamo qualche soldino rip perché un ragazzo padre ha tre figlie quindi c'ho tre figli sono tanti diamo questi su questo supporto ad un ragazzo padre che purtroppo in Svizzera ha bisogno di campare quindi per favore diamo un supporto a questo ragazzo padre con quello che costano gli asiri nido con quello che costano gli asiri nido e diciamolo perché la gente non ne parla abbastanza comunque tornando a noi che cosa succede quindi tanto tempo libero per studiare quindi la mia conoscenza accresce ovviamente c'è un problema mio esistenziale che ti stupirà non c'ho nessuno che sul solo C++ e non sul resto alzo le mani sul solo C++ mi dica sei un coglione mi dica stai sbagliando mi dica sta roba non è vera oppure mi dica devi vedere un'altra cosa perché mi manca un contraddittorio su quello che io studio perché sto talmente avanti solo sul C++ rispetto al tuo team rispetto ai miei colleghi perché ovviamente hanno degli interessi diversi il bello anche di questa azienda di avere poche persone che lavorano nel software un po' il contro di questa azienda ognuno ha le sue peribili negativo è che nel mio campo sono unico il più avanzato esatto per come sono fatto io a me non piace studiare della roba e dire c'ho ragione al 100% io voglio un contraddittorio ok non perché non per chissà che motivi ma perché mi piace confrontarmi è un po' nella mia indole quindi io inizia dentro di me a nascere un po' questo seme del volermi confrontare con altri ok parliamo intorno al 2012 fine 2012 ok tra l'altro io avevo iniziato l'anno prima a bloggare un po' quindi avevo iniziato a può essere pure allora spero che spero di non avere figli in giro però insomma se sa mai il meme mio padre su internet significa tipo cavolo cioè proprio colui che mi ha illuminato vabbè ah ok io considero che li seguo un po' in membro su questo mi mancava quindi vedi che si impara a comprare qualcosa mi mancava il contraddittorio anche sui meme per esempio allora attenzione che cosa succede succede questo nel 2011 avevo iniziato a bloggare quindi ogni tanto facevo qualche blog eccetera nel 2012 il cpp quindi l'ente internazionale iso cpp apre il suo sito iso cpp.org ok perché perché vuole fare da aggregatore di risorse il working group 21 iso cpp quindi allora c'è una fondazione dietro e questa fondazione apre il suo sito che ha l'obiettivo di promuovere esatto promuovere tra l'altro vedi ci sto pure io a un certo punto lì menzionato perché ho pubblicato un articolo io l'ho buttato dentro però che succede che in quel momento che cosa fa questo sito come obiettivo l'obiettivo è quello di stai ma sei matto io adesso sto facendo una blog series ultimamente quindi ogni volta ma ancora scrivi sul tuo blog io penso in realtà li faccio fare tutti a chat gpp ok 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 li faccio fare a lui scrivi metterai growing up marcoarena.wordpress.com ma anche il tuo video si è comprato calcola è lo stesso tema che io c'avevo nel 2011 non l'ho mai cambiato non l'ho mai cambiato questo tema qua quindi considera che questo qua è un tema che c'ho da allora e anche il motto è sempre quello growing up nel senso che la mia speranza era quella di evolvermi sempre di più e quindi ci avevo messo sta frase che cercava forse prima di motivare me che non altri inveccare obbligatorio crescere è opzionale crescere sta a te ok che poi in realtà la misi un po' per caso però poi nella vita me la sono ritrovata questa frase anche un po' come il mio mantra quindi è importante che cosa è successo nel 2011 nel 2012 ti stavo dicendo l'iso apre sto sito che fa da aggregatore di risorse anche oggi è così lo vedi ci sono tutti quei recent highlights quelle cose là si potevano proporre degli articoli come si può fare oggi però adesso ne propongono tantissimi di più io scrissi un articolo di cui oggi mi pento perché era un articolo monnezza altro motivo per cui mi serviva il contraddittorio però me lo pubblicano comunque cioè Satter fa proprio un commento lui a me in privato mi dice Marco guarda l'articolo non è che sia proprio perfetto però io capisco il punto di vista e te lo voglio pubblicare perché secondo me le riflessioni che fai sono istruttive io calcolo ma scrivo Satter nel 2012 ma l'ho conosciuto però dico chissà quante gente qui avrà mai sentito di comprensare Herb Satter che tanto è stato il lead del studio è ancora è ancora il capoccione Satter è ancora il capoccione di tutti con tutto l'hanno provato anche a destituire Herb Satter è ancora il boss del working group 21 del linguaggio e come si chiama è stato anche nel viso si lui lavora in microsoft è un architetto del del sito se non solo si 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 assolutamente quindi che succede che con questa pubblicazione per la quale ricevo ti ripeto odi e odi anche cioè odi odi da tutti e due i punti di vista cioè sia gli odi che anche le odi quindi critiche e l'odi però entro un pochino di più in un contesto tra virgolette un pelino più internazionale cioè mi iniziano a scrivere anche dei personaggi dall'estero tra cui un tedesco che tra l'altro era nella foto con Strustru prima che si chiama Jens Weller che mi menziona nel suo blog role Jens Weller è il creatore di Meeting C++ Meeting C++ nato proprio in quel momento e che infatti ha compiuto dieci anni l'anno scorso è una la conferenza più importante in Europa di C++ ma anche un aggregatore di community e di notizie di articoli di tutto quello che è il mondo del C++ allora se tu apri il sito purtroppo il sito ha un design molto esatto molto anni 90 però comunque diciamo che la sostanza che conta c'è te lo garantisco io qualcuno che ti segue lo conosce magari è venuto a Berlino a qualche io vado tutti gli anni faccio parte dello staff di questo evento anche ok che cosa succede tutto vedi che c'è tu ti butti poi nelle community degli altri eh alamo ti spiego perché questo questo ragazzo Jens mi inserisce nel blog roll con questo articolo io lo ringrazio e gli dico Jens guarda io tra l'altro ti volevo dire visto che tu hai questo aggregatore non ho ben capito come funziona io vorrei fare qualcosa in Italia perché avevo già quest'idea di fare una community come ce l'avevo quest'idea uno per il contraddittorio che ti dicevo due perché rosicavo a vedere che all'estero facevano le conferenze e noi non ce l'avevamo ho detto io io faccio la conferenza e voglio portare a mangiare la carbonara strustrup voglio portare a mangiare la carbonara a sapper che ne so scottmakers e quindi io voglio fare un evento di C++ in Italia questa era un po' la mia missione iniziale no? e allora che cosa succede sostanzialmente? succede che lui mi dà qualche dritta mi dice guarda che sì puoi partire insomma facendo una community online prima di tutto insomma mi dà qualche idea mi dà qualche dritta quindi io inizio creando un gruppo facebook e un gruppo linkedin perché all'epoca insomma si usavano questi strumenti per un paio di mesi non li caga quasi di striscio nessuno cioè non ci hanno grande successo poi purtroppo all'inizio del 2013 ci succede una cosa brutta muore mia madre e quindi mi metto un po' in pausa con questo progetto per un mesetto più o meno però che cosa succede poi? succede che a un certo punto dico no voglio fare sta cosa fatta bene quindi mi compro il sito mi invento il nome italiancpp.org il nome originale è più più it è la plus plus it plus plus it plus plus it il nome è un po' l'unione è un po' l'unione di it come Italia it come iteratore e più più it e sarebbe lì l'incremento dell'iteratore nella maniera più idiomatica possibile per cui noi prendiamo gli altri che invece fanno it più più o i più più noi allora facciamo un po' i fenomeni il pre-incremento in realtà dipende quindi che succede questo qua non è il sito originale il sito originale è un po' diverso forse te lo ricordi pure però era basato su un forum sempre era wordpress all'inizio è vero quest'anno l'Italia C++ salta purtroppo è vero vedo il commento quest'anno sì perché poi magari dopo ci arriviamo comunque gli impegni sono un po' maggiori quest'anno ci sono state un po' di c'è qualcuno che si è ritirato tra virgolette nel mio staff e quindi non riusciamo a farlo quest'anno ma il prossimo anno sono sicuro che ci riusciremo quindi state tranquilli però di tutto per esserci eh dai c'hai un anno di tempo per studiare e ti facciamo qualche note ok allora se non puoi fare il keynote ti facciamo stappa i chinotti esatto l'olivo deve essere meglio ok vabbè inizio inizio come mi compro il dominio mi compro mi compro insomma mi compro il dominio col nome coinvolgo subito un paio di persone che mi possano aiutare da subito col sito Franco Milicchio mio amico docente all'università persona con cui ho fatto la tesi amico fraterno Stefano Saraulli altro mio grandissimo amico compagno d'università che mi danno subito una mano con la parte di sito poi coinvolgo altre persone di fiducia che sono Raffaele Rialdi Davide Di Gennaro Alfredo Di Napoli esatto li coinvolgo per cercare di darmi tutti quanti una mano come board direttivo dopo qualche mese se ti ricordi ti chiamo pure a te sì dopo qualche mese che avevamo già iniziato a lanciare in beta tra virgolette cioè soltanto per pochi utenti selezionati il sito ti contatto ti dico Giorgio guarda io vorrei in qualche modo averti a bordo nella direzione di questa community che ho creato se ti va tu sei stato parte del board per qualche mese poi insomma mi ricordo che avevi avuto dei casini perché stavi andando in google quindi ci avevi un po' dei cacchi insomma mi stavo trasferendo sono già in Svizzera 2013 però c'avevi un po' di impegni comunque ci sta insomma con il cuore è normalissimo è normalissimo insomma su quello ci mancherebbe e poi niente da lì parto da lì parto quindi mi devo prima di tutto ti devi esporre in prima persona quando fai una cosa del genere perché inizi se vuoi anche un po' improvvisarti quindi mi ricordo nel 2013 iniziai a fare se tu guardi se guardi le date lì ci sono gli eventi fino al 2014 il primo mi tappa a Milano mi tappa a Bologna però le prime comparsate come community non come evento organizzato a noi le prime comparsate sono state fatte esatto qui vedi ecco qua ecco qua ecco là ecco là stanno lì capito guarda c'avevo i capelli c'avevo 10 kg in più quello che era poi il C++ mi ha proprio mi ha drenato cioè non so che mi ha fatto mi ha tolto tutto mi ha tolto pure l'anima però c'era già gente c'era già gente qui c'erano una trentina di persone se guardi l'ultimo evento che abbiamo fatto l'altro anno ce ne stavano un po' di più per fortuna 2024 2023 settembre notte a vedere Italia C++ Conference 2023 ti dovrebbe redirezionare sul sito questo qua se vai qua vedi se vai un po' più giù no questa qua è 2019 in realtà perché questa era la copertina di quell'altro se vai un po' più giù ancora vediamo se conosco qualcuno qua vediamo se conosci qualcuno Raffaele Rialdi Davide Di Gennaro Maurizio per esempio era Davide ex Googler ha scritto un libro sulla Davide Davide ex Googler Davide ex Googler Maurizio era il CTO di IO Interactive è uno di quelli che ha fatto Hitman per dirti non li conosco Vittorio un altro personaggio del nostro ecosistema molto molto importante da Bloomberg Lavora in Bloomberg Conor Lavora in Nvidia insomma ce ne sono ce ne sono diversi le foto dovrebbero essere linkate da qualche parte non mi ricordo se stanno forse sopra però a vedere piano piano che sponsor abbiamo avuto un sacco di sponsor ci stanno ah vai su Vrap Apposto vedi read the Vrap Apposto un po' più avanti aspetta sotto 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 ecco lì a metà pagina più o meno un po' più ecco lì vai sul link e poi ci dovrebbe essere un link all'album delle foto su Facebook se ti interessa ok ok vediamo un po' più giù dovresti provarlo quindi comunque questo qua insomma c'erano 200 e passa persone insomma è stato un bel evento abbiamo fatto 10 anni di community c'erano le torte eppure abbiamo festeggiato pure con le torte bello esatto ci arriviamo ci arriviamo ci arriviamo ci arriviamo allora per fartela diciamo per accorciarti un po' la storia perché in effetti stiamo andando forse troppo lunghi su queste vicende qua che cosa succede all'inizio insomma realizzo un po' questo obiettivo di avere questo contraddittorio finalmente di fare gli eventi quindi inizio a fare un evento in Italia meetup partecipazioni ad eventi di qualcun altro talk insomma tutta tutta una serie di cose poi che cosa succede invece se poi parliamo di Coding Gym possiamo arrivare a parlare di Coding Gym come nasce Coding Gym perché si collega subito dopo in effetti allora nel 2015 devo sapere domanda è una metadomanda in realtà e ci chiede Federico Bidone mi sembra che il blogging sia stato importante per voi oggi il blogging è morto è qualcosa che consigliate a un giovane che inizia ora io mi trovo personalmente molto in difficoltà perché finché bloggavo mi sembrava che tutti bloggassero ora che faccio video mi sembra che nessuno blogga più però magari è semplicemente la availability bias può darsi che ancora è molto viva però diciamo che una presenza online è utile crea opportunità Marco ha conosciuto una valanga di persone ha creato un sacco di opportunità e in qualche modo è utile ora sul blogging specifico non saprei dico sempre che fallo per te stesso fallo perché scrivere è un modo per pensare meglio a mio avviso non so se è il modo più efficace tu Marco ma guarda allora io per quello che vedo di C++ ma non solo vedo che il blog è ancora molto utilizzato e dipende un po' dal tipo di pubblico che vuoi raggiungere il blog di solito è seguito molto dalle persone che vogliono se vuoi anche cioè che hanno tempo di leggere l'articolo quindi spesso è un pubblico se vuoi anche un po' più che vuole approfondire molto di più quindi è un pubblico se vuoi che si mette lì legge prova va sui link che sono stati pubblicati quindi può essere secondo me un mezzo ancora interessante io lo uso tuttora quindi è un mezzo sicuramente interessante però mi rendo conto anche di un'altra cosa che se vuoi raggiungere le persone più in fretta e magari ne vuoi raggiungere anche molte di più il video oggi è lo strumento che va per la maggiore anche i video molto brevi quindi sicuramente è utile io comunque faccio questo cioè come mia riflessione molto spesso il blog io lo uso più per me stesso che non per condividere con altri ed è l'esperienza che sto facendo con questa serie che sto scrivendo proprio in questi mesi che è una serie su una libreria di actor model in C++ che ho avuto il piacere di scoprire e di usare anche lavorativamente quindi lo sto usando in maniera professionale e se vuoi un po' per dare indietro qualcosa a questa community di questa libreria che è una libreria open source quindi una libreria che se vuoi insomma puoi usare gratuitamente un po' per quel motivo un po' per cercare di pubblicizzare un po' essere objectizer si chiama subjectizer la libreria esatto una libreria C++ per fare actor model è stato scritto da un insieme di persone che poi in realtà poi hanno costituito un'azienda ma la libreria l'hanno lasciata open source e a me piace molto questo strumento perché mi permette di scrivere più quasi per me che non per gli altri poi in realtà ho diversi lettori anche insomma che anche in privato a volte mi scrivono mi chiedono delle cose non ho un grandissimo pubblico dico la verità cioè se guardo le mie statistiche di questa serie è una serie seguita non tanto anche perché i miei post sono abbastanza lunghi per un motivo perché comunque cerco di mi confronto anche con il maintainer della libreria infatti in fondo c'è scritto che è questo nome Yuhini che è un nome bielorusso quindi il contenuto degli articoli dal punto di vista della libreria è molto molto idiomatico perché io mi confronto tutti gli articoli con lui lui ha la pazienza di revisionare ogni articolo ed è una serie mutuata un po' da un'esperienza reale quindi ci sono dei contenuti anche che sono molto simili ad un'esperienza reale che ho fatto abbastanza si usa ancora OpenCV si usa ancora OpenCV si usa ancora poi ovviamente ci sono molte aziende che se lo sono riscritto il proprio OpenCV 21 anni da quando l'ho stato l'ultima volta vabbè emozione e quindi no comunque appunto OpenCV si si è usato nella serie come una delle libri di esempio quindi ecco per rispondere alla domanda di questo ragazzo io consiglio anche un po' di capire qual è il tuo obiettivo cioè se tu vuoi raggiungere un pubblico vasto quindi vuoi visibilità forse il blog boh non so magari è più il video che ti dà visibilità ad oggi il blog è più un bel esercizio però secondo me è un bel esercizio anche perché spesso ti dovrai trovare a scrivere anche nel lavoro e quindi può essere importante anche entrare nei dettagli anche perché per preparare un articolo in un certo modo magari devi entrare in determinati dettagli quindi può essere un bel esercizio insomma questo mi sento di raccomandarlo così vuoi fare un'altra domanda o ti torno sulla storia dimmi come vuoi domande che poi dipenderemo dopo alcune le ho messo dalle stelline perché sono più legate all'esperienza Ferrari ci torniamo poi dopo andiamo avanti alla nostra lineare che cosa ti spiego una delle cose che potrebbero venire in mente è ok sei partito Marco con queste community insomma con questa community di Talians 3++ la faccio io la domanda ma quanti sordi ci hai fatto con questa community che stai eh guarda sto nel castello qua lo vedi no per ok questa cosa mi fa dire oggi è difficile trovare qualcuno che fa qualcosa senza onestamente cerchiamo di capire un po' le motivazioni proprio egoistiche no cioè ok sei santo oppure quale sono cosa ci nascondi qual è il motivo per cui cosa ci nascondi infatti è una domanda buona perché ci stavo anche arrivando in effetti quindi è una buona alzata che mi fai allora io parto con un obiettivo se vuoi un po' da un lato egoistico perché dico io voglio un contraddittorio che è un mio obiettivo no ah beh e poi ovviamente avrà una una valenza anche nel lavoro però e poi l'altro obiettivo che avevo era voglio fare un evento di C++ in Italia avevo questi due obiettivi obiettivi molto pratici molto pragmatici consapevoli ok quindi Marco parte così parte con questi due obiettivi in testa e li porta a casa ok li porta a casa poi arriva un momento dove inizio a capire che la community cioè il concetto di community per me è uno strumento di espressione cioè inizio a valutare dentro di me questa questo fatto che la community diventa parte del mio essere cioè parte della mia espressione e quindi che cosa succede nel 2015 arriviamo a Coding Gym che è un altro momento di transizione delle community per me nel 2015 vengo esposto a Hacker Rank da parte di Alfredo Di Napoli il colpevole è lui che forse ci sta seguendo non lo so o era il 2014 o il 2015 comunque il momento più critico dove io mi sono messo a fare Hacker Rank è stato il 2015 Alfredo stava cambiando lavoro e mi manda per scherzare sto cacchio di Hacker Rank mi dice Marco mi sto preparando se vuoi fate due esercizi poi li facciamo insieme su Skype poi ci confrontiamo fammi vedere che sai stavo andando sotto con Askel e con linguaggi del piffero Alfredo è un Askellaro incallito Alfredo è un Askellaro incallito a conferenze di Askel l'ho incontrato si programmatore funzionale incallito lui quindi che succede mi manda questo Hacker Rank io non lo conoscevo non conoscevo questo mondo della competitive program Hacker Rank era usato dalle aziende perché mettevano sopra diciamo degli online assessment facevi il test l'itcode è più per fare pratica Hacker Rank se non sbaglio era un po' più un po' più un corno esatto però Hacker Rank aveva comunque tantissimi esercizi su cui tu potevi praticare mi manda inizio a guardarmeli inizio a farne qualcuno all'inizio ovviamente sei cioè sei un po' disorientato perché dici ma come cioè sono degli esercizi a volte un po' astratti non sai bene cioè mi ricordavano l'università perché alcuni esercizi erano quindi che cosa succede però mi inizia a piacere questa cosa qua quello che facciamo insieme con Alfredo è un confronto cioè a volte li risolviamo in pair a volte li risolvo per fatti miei e poi li condivido con lui quello che ho scoperto bello piuttosto che fare tanti esercizi in un giorno capisco che la cosa migliore sia farne uno ma spaccarlo cioè farne uno farlo in un modo farlo in un altro farlo in un altro ancora cercando i compromessi cercando perché uno è meglio dell'altro inventandomi delle variazioni del problema bellissimo che io poi ho chiamato perturbazioni perché perturbi il problema cioè come vedo il problema in quel momento vedo che il problema è un sistema di regole all'interno del quale io devo stare quindi io sono libero di risolvere il problema come voglio ma la libertà senza regole non ha senso sembra filosofia ma se ci pensi ha senso è vero cioè se tu non avessi regole non avresti il concetto di libertà questa cosa mi piace molto la faccio da solo Alfredo poi prende un lavoro milionario non è vero poverato però cambia lavoro a successo io però continuo ad allenarmi con questo metodo che piano piano affino dove mi diverto tanto tra l'altro scopro anni dopo che si instaura un ciclo di dopamina quando succede questa cosa qua cioè il cervello è attratto dal fatto che l'esercizio venga risolto che ci sia un feedback ci sia una ricompensa quindi il piacere che io provo nel risolvere il problema adesso non voglio passare per un maniaco è chiaro diventa dimificato diventa spendo tempo e tra l'altro mi dà un vantaggio perché perché io riesco a mettere in pratica tanto C++ in un contesto anche diverso dal solito lavorativo sì ma ci hai mandato a curriculum tutte le fanghe del mondo perché alla fine avevo alla fine non l'ho fatto non l'ho fatto perché non l'ho ancora fatto perché comunque questo è un altro degli agganci che arrivano arriveranno mi sento ancora impreparato mi sento ancora molto impreparato cioè nel senso alza un po' il gomito un attimo lo faccio da qua lo faccio ma va a cagare va ma va a cagare comunque in quel momento ma anche adesso ma comunque in quel momento mi sento particolarmente impreparato quindi dico devo continuare ad allenarmi mi piace molto questo modo di allenarmi questo modo di scoprire cose nuove algoritmi nuovi ma anche variazioni del problema ragionare come un software engineer in maniera seria quindi dire ma ok hai risolto il problema ma se io ti spengo questo requisito ma se io te ne accendo un altro che fai questa è una domanda classica da interview e avere i follow up certo io ho fatto mille interview e mi divertivo a creare varianti a creare follow up question come scali sta cosa come distribuisci quindi io inizio da solo a fare questo ragionamento lo faccio per un bel po' di mesi cioè ovviamente non che tutti i giorni stavo lì però per mesi faccio questo esercizio poi che cosa succede mi viene in mente e qui torniamo al discorso delle community cioè le community iniziano ad essere un linguaggio per me di espressione quindi io dico ma questo ciclo di dopamina che poi ho scoperto quindi questo piacere che provo ma se non fossi l'unico a provarlo e se lo condividessi con qualcuno e quindi mi viene in mente di dire io già faccio delle attività degli eventi perché non non crea un evento che mette le persone in questo contesto di risolvere dei problemi però mi invento cioè mi invento prendo spunto da altre cose per fare un'altra per fare un altro passo importante dico il software engineer non è solo codice il software engineer è anche lavoro con gli altri assolutamente ed è una cosa che io vedevo anche nel lavoro a volte vedevo una deficienza intesa come mancanza di preparazione come mancanza di una certa cosa quindi non deficienza come insulto deficienza comunicativa deficienza di saper collaborare e quindi ho detto mi piacerebbe dimmi dimmi difficilmente in un ambiente in cui ci si allena per risolvere i problemi di competitive programming comunque nasce una qualche forma di comunicazione come hai potuto come hai potuto compensare questa cosa perché alla fine di community che si allenano a fare elite code è strapieno il mondo sì sì adesso ti racconto adesso ti racconto allora l'esigenza da cui partivo ti ripeto era questa qui anche di cercare di dare un contributo all'aspetto comunicativo e collaborativo quindi quello che io faccio con Coding Gym è creare un format dove le persone vengono non competono lavorano a coppia per risolvere un paio di problemi al termine di ogni problema si fa una retrospettiva cioè si fa una fase dove noi riprendiamo quella fase che io facevo con Alfredo quella discussione interattiva questa soluzione è meglio di quest'altra questa cosa è così che succede se facciamo questo questo da una serie di cose non mediata cioè le persone a coppia no 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 allora la retrospettiva è una retrospettiva dove io sono il facilitatore io chi per me diciamo i trainer non è che scala molto i trainer a coppia potrebbe essere fa difficoltà a scalare se hai mille persone che fanno questo questo gioco allora il punto è anche il punto è anche questo adesso ti spiego ti spiego meglio un po' come funziona questa cosa ma va bene va a finire che se fai apply per una fanga nell'interview se devi chiedere si fa il contraddittore a loro esatto no allora il concetto di fondo di coding gym è anche questo si intanto coding gym non è un qualcosa di aperto a mille persone quindi coding gym è una sessione con un massimo di 30 persone in genere in media ci sono 20 25 persone così quindi partiamo da questo non è un evento nato per grandi platee ok c'è un motivo c'è un motivo primo motivo è un format facilitato significa che il trainer quindi la persona che le persone o la persona che moderano la sessione sono attive nel supportare le persone quindi le persone lavorano a coppie format dal vivo o format cioè tu sei molto da community fisica questa è una cosa che sto scopendo ti piace proprio incontrare la gente assolutamente sì io sono molto pro per la community fisica durante la pandemia abbiamo fatto eventi online coding gym l'abbiamo fatto un paio di volte in online ma non ha funzionato più di tanto ok per me per me la spalla due persone si mettono spalla a spalla due persone si mettono spalla a spalla risolvono il problema lo risolvono con il linguaggio che vogliono usano HackerRank perché HackerRank gli permette di risolverlo con il linguaggio che vogliono e il linguaggio e il test e ci sono i test dietro quindi il problema dietro a dei test quindi il feedback che ricevono è immediato che vuol dire che possono riprovare mica avrai rifatto una piattaforma cioè stai un poter HackerRank 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 permette di creare le proprie raccolte di esercizi ok quindi hai un account da corporate che mette sugli esercizi no un account gratuito perché se non sei una corporate ti farle come vuoi sì poi non è una gara quindi non è un contest ovviamente HackerRank purtroppo l'unica cosa che si può fare è un contest però per noi non è una gara persone vengono lavorano su questo esercizio con il trainer che gira e dà supporto dà degli spunti nel caso in cui lo risolvano troppo in fretta ad esempio prova a dare degli spunti prova a dare delle indicazioni su come possono fare di più se c'è qualcosa che possono variare magari gli dà una perturbazione gli dice prova a fare questo ragionamento perché la sessione è sempre preparata c'è sempre una preparazione dietro ed è un format che come vedi è distribuito allora io per due anni l'ho fatto solo a Modena quindi 2016-2017 due anni in cui l'ho fatto solo a Modena qua c'è ancora qualche capello poi dopo succede che degli amici tra cui quello che vedi qui al centro Alessandro il ragazzo con gli occhiali con la maglia di Coding Gym mi dice Marco che era un mio amico del mondo delle community del mondo del C++ mi dice Marco ma questo format che tu fai è carino perché non lo proviamo a fare altrove e quindi io investo diciamo del tempo delle risorse se vuoi anche del denaro mio e creo il format Coding Gym perché all'epoca sì era un format però era un po' un format che noi facevamo soltanto a Modena dove io avevo questa è la nostra sede di Modena adesso è cambiata in realtà siamo al piano di sopra però questa è la sede storica quindi addirittura il logo è registrato quindi l'ho registrato a spese mie ed è un progetto in cui io credo cioè io se tu mi dicessi buttate due community dalla finestra e tenete una io tengo Coding Gym per una questione mia perché non? ok ok è bellissima come cosa a me non so se fanno impazzire è una cosa bella perché attrae persone a farlo come vedi qui ci sono quello fanno a Milano adesso questo qua purtroppo questa sede qua di Milano non è più disponibile lo fanno altri ragazzi quello che succede in questa sessione qua poi si fa questa retrospettiva nella retrospettiva c'è un'altra fase dell'allenamento che per me è importante la comunicazione le persone si allenano a comunicare con gli altri a parlare in pubblico torno al perché c'è una platea piccola perché le persone devono avere un ambiente amichevole per buttarsi se vuoi imparare a nuotare Giorgio che fai? prima di tutto devi buttare nell'acqua ma se ci sono gli squali l'acqua è troppo alta non ti butti no ma se l'acqua ti arriva fino a qua ti butti forse ti butti quindi l'idea di Coding Gym è questa è dare coding a chi vuole fare coding ma se tu vuoi anche esprimerti vuoi comunicare vuoi allenarti a comunicare in un ambiente amichevole in un ambiente se vuoi anche un po' di comfort anche perché si creano delle relazioni si crea una periodicità allora lì tu sei spronato a farlo ed torniamo al perché non è per mille persone perché se io metto le persone in un contesto così grande molti non molti non ce la fanno no in realtà ci sono anche tantissimi studenti adesso le foto complete se volete le trovate su facebook e abbiamo diverse 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 persone da tante ma ci sono un sacco di eventi ci sono ancora poste disponibili per questi eventi sì a Modena per esempio il 21 marzo c'è posto anche in Brianza il 14 assolutamente anche quelli sono tutti eventi gratuiti cioè noi organizziamo queste attività gratuitamente ti puoi registrare senza problemi non avete scuse Modena in Brianza ma cavolo quanto un sacco di roba sì sì perché vedo che ci sono delle location che compaiono più spesso ma allora l'idea è di fare il format è periodico cioè l'idea è di avere una periodicità prima del covid quella che io chiamo la golden age delle community 2019 ci abbiamo avuto anche 5-6 eventi in parallelo allo stesso mese e ogni mese uguale quindi assolutamente c'era molto molta partecipazione poi c'è un altro aspetto se è possibile venire a vedere gli eventi sì gli eventi sono assolutamente c'è possibile venire persone a vedere anche senza partecipare in qualche modo sì ma è un peccato però perché la cosa bella di Coding Gym ad esempio è proprio che ti racconto un aneddoto a Coding Gym veniva un medico una volta l'hanno domato al pronto soccorso e ho dovuto scappare mentre stava facendo sabbita di una challenge perché vengono anche persone che non lo fanno di lavoro e quello è il bello vengono vengono degli umanisti vengono dall'esperto fino a quello che è un amatore che gli piace che bello cavolo che bello cazzo è una cosa bella quindi se qualcuno vuole ospitare eventi se qualcuno vuole ospitare eventi mi può contattare c'è anche comunque sul sito ci possiamo sentire c'è tutto un diciamo un paio di cose da vedere insieme e poi a Torino c'era a Torino c'era e ti do uno spoiler che forse ritornerà perché un mio amico che da Modena si sposta a Torino vorrebbe in futuro nei prossimi mesi farlo a Torino cavolo che bella quindi insomma ovviamente si tratta di uno sforzo gratuito di uno sforzo torniamo un po' alla domanda che mi facevi lo fai gratuitamente sì lo faccio gratuitamente perché ti ripeto le community iniziano ad essere un po' il mio il mio mezzo espressivo e non è un peccato che non sia la tua attività principale perché non molli quest'altra monnezza e ti metti a fare community cavolo intanto ti dico mai dire mai nella vita nel senso che io sono una persona che piuttosto che dirti se cambi idea sei un incoerente io ti dico se cambi idea sei un saggio cioè nel senso puoi cambiare idea se ci sono le ragioni per farlo quindi io ti dico oggi non mi interessa ma domani potrebbe interessarmi io non ho firmato nessun contratto ti dico oggi perché non mi interessa perché io oggi sono senza etichetta te lo raccontavo anche qualche tempo fa cioè io oggi non essendo mosso dal vile denaro ovviamente banalizzo e scherzo io oggi posso fare quello che mi pare io e le persone che con me organizzano queste attività possono fare quello che vogliono è vero che non non c'è una scalabilità e non decolla l'idea se non ci metti se vuoi è vero non decolla in un modo che potresti far decollare se tu ci mettessi un business model però alla fine della fiera devi scendere a qualche compromesso comunque per monetizzare per tutte queste esatto esatto anche nel mio server discord c'è qualche cosa del genere però è tutto non lo sto seguendo nessuno in particolare cioè il mio problema è che queste attività che fai che sono fighissime campano solo perché tu ci stai mettendo anime e core io e anche sì principalmente poi ovviamente tipo Codingim è fatto da altre persone in altre città io curo Modena curo il format perché io curo anche la meta community se vuoi che è la community dei trainer che sono le persone che organizzano Codingim e prima del covid avevamo anche una call mensile dove ci sentivamo adesso è un po' calata la cosa però lo faccio però ti dico un'altra cosa per me il motore principale di queste attività è comunque il motore tecnico cioè io faccio queste cose perché sono cose tecniche se io andassi a fare il community manager di una ditta di biscotti ad oggi ti direi boh forse non mi verrebbe da farlo è chiaro è chiaro ti dico probabilmente cambio però a me piace questo connubio tecnico e sociale cioè tecnico e umano bello mi piace metterli insieme il modo in cui io mi esprimo per metterli insieme è questo è avere un lavoro tecnico dove ovviamente per forza di cose io uso anche le mie skill community anche perché il ruolo in cui sono transitato da quando sono in tetra perché è un ruolo che è tecnico ma è anche un ruolo che mi permette di avere un impatto su un'ampia parte dell'organizzazione perché il mio è un ruolo insieme a quello di altri colleghi di portare le AI all'interno dell'azienda da tanti punti di vista ad esempio non ci arriviamo a questo passaggio sull'AI se poi ci arriviamo se poi ti chiudo il discorso community sul discorso community quello che oltre a Coding Gym poi a un certo punto che succede qui arriviamo al Marco Maturo Marco nel 2019 volevo restare su Coding Gym perché se me ci sono ancora cose interessanti forse la parte che più mi interessa è che magari potrei aiutare in qualche modo o a far nascere nuove 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 palestri come è il momento del formato ci sono massimo 30 persone e quanti trainer sono richiesti il trainer in realtà è molto cioè io per dire a Modena lo faccio da solo quello che consiglio fuori da Modena perché lo ho inventato io però fuori da Modena io dico almeno dovreste essere in due ok infatti tutti più o meno quindi due tre ma vabbè il limite di bene hanno dei costi nel senso che qua dipende dalla location come cavolo esatto il discorso è delicato nel senso che io quello che quello che voglio fare con Coding Gym quello che vogliamo fare con Coding Gym è sempre essere ospitati in delle location il più possibile neutrali università allora ad esempio io a Modena lo faccio in uno spazio del comune per dire l'università è un'altra possibilità co-working che ospitano diverse aziende quindi non ne ospitano solo una ti spiego anche questo aspetto perché ogni cosa che ti dico in realtà non è che me la sono inventata è anche dovuta ad anni di esperienza poi ovviamente è un'esperienza che può essere sbagliata io negli anni di Coding Gym soprattutto quando l'ho iniziato a portare fuori ho cercato di interagire con le persone per capire se si sentivano in un contesto neutrale se si sentivano a proprio agio a stare anche in spazi aziendali perché è capitato di andare ad essere ospitati anche da aziende purtroppo almeno in Italia in quel periodo storico molti dei feedback che io ho ricevuto sono stati se me la ospita un'azienda mi sento un pochino aggredito quando poi nessuna azienda stava lì magari vogliono fare recruitment magari vogliono fare pubblicità però insomma alla fine ci può avere senso però questo io ne dovevo prendere atto in quegli anni io non potevo quindi dire Coding Gym lo facciamo dove volete quindi oggi cerco sempre di dire ai trainer cercate una location neutrale se poi proprio non la troviamo troviamo un compromesso andiamo dentro un'azienda però la mettiamo in un certo modo a Modena io sono ospitato al comune a Milano sono ospitato c'è anche un lavoro di dover instabilire relazioni con gente tipo ospitare però considera che allora infatti una cosa che io dico che do sempre come consiglio è se tu vuoi fare Coding Gym e parti da zero un primo modo è trovare un'altra community locale che ti aiuti come io ho fatto a Modena Modena io per un insieme di cose un mio collega della Ferrari all'epoca era il vicepresidente dell'UG di Modena conoscere Linux l'attuale organizzazione che mi ospita e quindi io sono stato fortunato perché sono riuscito a entrare poi ovviamente il network fa la differenza nel senso che magari io potrei avere oggi dei contatti l'università infatti è uno dei nostri contatti vedo Federico che lo chiede assolutamente uno dei nostri contatti a Modena l'abbiamo avuto a Milano abbiamo avuto a Bari per esempio anche adesso sono un po' fermi a Bari però a Bari lo facevano dentro l'università quindi assolutamente quello che dico io è cercare una location neutrale per mettere le persone a proprio agio nelle community è importante il mio mantra è che le persone siano a proprio agio se le persone si sentono aggredite tu magari non te ne accorgi perché ognuno di noi è diverso questa cosa deve essere presa come atto da noi community manager e qui se vuoi poi apriamo un vaso di Pandora perché c'è tutto un discorso di come poi è avuto cose problemi a parte che mi sembra aver capito che la coding gym sono più eventi separati non è una vera e propria community o sbaglio cioè non c'è allora c'è una allora c'è una community su Telegram dove non c'è tanta interazione effettivamente però effettivamente scusa conosci Lead the Future hanno fatto notare il mondo Lead the Future l'ho sentito però in effetti non ho approfondito quindi un buon buon puntatore grazie all'Idroscalo di Milano faremo presente lavori di buon vita e c'è anche Super Hero Valley un'altra community che ho ospitato sono anche parte del disco purtroppo non frequento tanto ma li conosco assolutamente li conosco loro fanno anche un altro lavoro eccellente secondo me bellissimo se vuoi anche di divulgazione ma anche di avvicinamento dei ragazzi al mondo delle fang quindi è un bellissimo lavoro anche loro allora quindi non mi ricordo mica che ti stavo dicendo ti stavo dicendo ti ho interrotto ti stavo dicendo qualcuno mi sta ripartiamo 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 da rompiamo il ghiaccio sveliamo finalmente dopo due ore sveliamo come Rip mi ha pagato questa sera ragazzi io questa cosa la devo dire perché poi gli altri pretenderanno in che modo sono stato pagato pretenderanno lo stesso trattamento allora io sono stato pagato in natura ebbene sì sono stato pagato in natura Rip mi ha pagato in natura mi ha fornito diciamo mele una bella cosa d'aglio qua che mi serve carote pera lo faccio questa è natura vera una l'ho assaggiata una l'ho mangiata devo essere sincero perché il cesto era un po' più ricco c'era una pera in più devo essere sincero non era così povero e quindi una l'ho mangiata devo dire complimenti al tuo contadino di Zurich io sempre in natura sempre in natura complimenti devo dire assolutamente sì comunque adesso per tornare stavamo parlando stavamo parlando di Coding Gym stavamo parlando delle università location neutrali ti avevo chiesto Coding Gym mi sembra una community mi sembra che si creano eventi di volta in volta locali non c'è una vera e propria community al di fuori questa è la domanda allora questo è un altro punto interessante allora la community interattiva al di fuori effettivamente c'è molto poco perché c'è un telegram chi vuole interagisce ma non c'è molto traffico la cosa bella secondo me di Coding Gym è che visto che gli esercizi sono condivisi tra tutte le sessioni noi abbiamo un database condiviso un air table condiviso tutto il lavoro dietro che io ho fatto e che i ragazzi cercano di tenere mantenuto la cosa bella di Coding Gym che è l'ultimo punto che mi sono dimenticato di dire è che nel momento in cui un esercizio viene fatto da tante location ogni location potrebbe aggiungere del valore nuovo ed è capitato tantissime volte il compito del trainer è tenere questa conoscenza e condividerla abbiamo il sito con tutti gli esercizi che abbiamo fatto sono tutti spiegati sul sito con tutte le varianti le variazioni sì tutto quello che tutte le cose notevoli importanti che arrivano nuove il compito del trainer sarebbe quello di portarle sul sito ed è successo tantissime volte che magari che ne so io vi faccio un esempio a Padova c'è un ragazzo che è un fenomeno che tutti gli esercizi li fa in assembly tutti ok e ogni tanto qualcuno lo fa sì il telegram è aperto anche a chi non ha mai partecipato assolutamente sì assolutamente è aperto basta che non mettete dentro spam però assolutamente sì c'è il link qui tranquillamente c'è il link a telegram forse sta nella home page sai che questo potrebbe essere ah no c'è nel footer c'è 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 il link c'è il link assolutamente e quindi interessante molto 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 figo sta roba qui ti ripeto ricordami un po' cioè se si lavora in pair programming a coppie si lavora in pair si lavora in pair si lavora sempre in pair il pair è uno strumento che a me è sempre piaciuto io in ferrario ho avuto l'opportunità di praticarlo fin dall'inizio è bello anche ho anche studiato un po' perché poi è un'altra cosa che se voi ci arriviamo anche dopo come vuoi mi sono all'inizio improvvisato a fare questo queste community però a un certo punto mi è nata anche l'esigenza di documentarmi di più su quello che può succedere no le interazioni quindi il pair programming ad esempio quando ho voluto fare coding gym l'ho studiato un po' di più ho studiato un po' di testi ho studiato un paio di libri qualche articoletto quali sono le meccaniche del cervello che si instaurano tra persona a persona insomma ho studiato un po' di cose interessanti per esempio è dimostrato che due persone che fanno pair in una classe rompono meno le scatole al docente perché? perché si aiutano tra loro perché si crea un meccanismo per cui uno non vuole fare brutta figura con l'altro e quindi rompe di meno le scatole tutta una serie di complessità psicologiche molto interessanti che rendono poi il pair ancora più di valore secondo me poi secondo me il pair è una skill importante nel lavoro quindi cioè se tu ti alleni soprattutto a farlo con persone che non conosci secondo me è bello poi ovviamente alcune persone possono non piacere per carità io se qualcuno viene e mi dice no io voglio assolutamente lavorare da solo non è che lo caccio ci mancherebbe però io consiglio infatti lavorano di solito sempre tutti in pair perché è un'opportunità di crescita di imparare a comunicare di imparare a collaborare di mettersi in gioco ok la conoscenza delle altre persone è uno specchio per noi quindi è importante secondo me crescere guardando anche il nostro rapporto con gli altri e questo è importante anche nel lavoro la cosa bella di queste community poi Giorgio è che si crea una sorta di effetto una reazione una reazione a catena si può dire cioè i miei colleghi i miei colleghi poi vengono cioè vengono nelle community li ho portati ma non non l'ho manco forzati prendono e vengono ma anche in Forrari alcuni prendevano e venivano ma hanno anche dato una mano agli eventi c'è Guido Petersini grandissimo collega amico mi ha dato un sacco di aiuto anche perché comunque tu dedichi tantissime energie nel senso che hai tolto il lavoro è tutto fuori dal lavoro è tanta roba è tantissima roba poi ti ripeto negli anni esperienza le community diventano un linguaggio quindi alcune cose le integri dentro te diventano più rapide l'apprendimento si basa sempre su queste tre fasi dove inizi che sei assolutamente inconsapevole di quello che stai facendo quindi c'è questa situazione in cui ti arrangi come puoi è come se stai in un combattimento ti metti a dare cazzotti a caso a qualcuno perché non sai nulla della cultura che c'è dietro il combattimento inizi a studiare il combattimento niente più finito per te ok inizi a studiare come si combatte oppure nel mondo dei community inizi a capire un po' meglio quindi inizi se vuoi essere un po' più meccanico e quindi quello che succede è che diventi molto più lento diventi molto più meccanico molto più tirato però poi la cosa bella è che arrivi il terzo stato il terzo stato in cui ti reintegri nel primo cioè uno stato in cui tutto diventa naturale e lo stesso è per le community come per tutte le abilità che noi è come imparare quasi cosa no? è come imparare quasi cosa ma è a caso poi studi linguale io ovviamente non me la sono inventata io se no sarei un filosofo questa è una è una i tre stati dell'apprendimento di Bruce Lee che poi ha ripreso in realtà dalla filosofia orientale dallo zen che è una cosa molto bella che a me piace molto come come cultura e quindi però mi ritrovo molto questo questa filosofia del iniziare da ignorante esserne consapevole e quindi farci caso e poi dopo a un certo punto nella vita il segreto è che tutto ritorna naturalmente ad essere parte di te e quindi questa secondo me è una cosa bella che avviene per tutto come per il nuoto per la programmazione anche per le opinioni quindi la fatica che fai secondo me la fatica che fai a un certo punto diminuisce infatti si dice che l'esperto è quello che pensa di meno non di più perché deve fare meno fatica la CPU la consuma di meno molte cose diventano automatiche diventano automatiche non devi più farci caso le energie soprattutto all'inizio erano tante di più adesso sono comunque ad un buon livello però è un livello sicuramente più consapevole di prima io ho fatto un talk che si chiama Bruce Lee for C++ Programmers lo trovate sul mio youtube che paragona nel senso che avevo raccolgo i miei talk su queste playlist non sono come te l'eminenza dei video però avevo fatto un talk per così un po' stravagante per avvicinare le persone alla filosofia di Bruce Lee tramite C++ perché così mi ero letto un po' di test di Bruce Lee mi ero appassionato talmente tanto che ho detto voglio fare qui c'ho pure Bruce Lee for C++ Programmers se volete andatevelo a vedere poi potete anche tirarmi vi do io le carote da tirarmi se fa schifo tiratemene però diciamo che freebooter tra l'altro attenzione non sei tu non sei tu qualcuno sono io perché l'avevamo ospitato da conoscere Linux e quindi l'hanno pubblicato loro su quello sì tra l'altro ci sono anche dei riferimenti proprio veri ai film di Bruce Lee eccetera se vi interessa poi Bruce Lee è un altro argomento che a me interessa particolarmente ad esempio un mito da sfatare poi chiudiamo su Bruce Lee tutti dicono Bruce Lee faceva film per dare mazzate a tutti ha gonfiato dei botte Chuck Norris al Colosseo però lo scopo vero di Bruce Lee non era dare mazzate dentro i film lo scopo di Bruce Lee era portare la filosofia orientale cioè la sua cultura originale in America in Occidente e lo fa tramite i film se guardate i film cercate di capirli molto bello tante cose interessanti che emergono un paio un paio lo dico anche nel talk per dire quindi per cercare anche un po' di dare dei puntatori questa è un po' la mia idea poi anche di diffondere alcune idee i puntatori dei puntatori i puntatori del C++ sono quelli ovviamente ok chiaro chiaro ma hai dovuto mai gestire situazioni difficili nel mondo delle community cioè umanamente difficili umanamente difficili allora qualcosa qualcosa è successo per fortuna in maniera molto limitata allora una è successa di recente e la devo gestire tipo domani nel senso che abbiamo avuto un feedback all'evento che abbiamo fatto a gennaio di ML Modena che è l'ultima community che ho creato dove sono arrivati dei feedback tra l'altro divertenti per modo di dire divertenti che se vuoi te ne leggo uno tra l'altro che li dovrò leggere domani te ne leggo uno in anteprima vai in anteprima ti leggo ti leggo il primo dai perché gli altri sono molto più divertenti magari me li riservo per domani però c'era una Novax che girava spacciandosi per professoressa di matematica di Unimore che sarebbe l'università di Modena Reggio ma in realtà non conosceva nulla di matematica era un personaggio piuttosto cringe poi ci sono altri due commenti purtroppo peggiori che fanno anche un po' ridere per certi ma fanno parte della community? sono dei feedback arrivati all'evento che abbiamo fatto di ML Modena di gennaio a quanto pare c'era la community sì ci arriviamo a quanto pare c'era questa signora che non abbiamo ben identificato che girava diffondendo idee malsane spacciandosi anche per organizzatrice e non abbiamo capito esatto questo è un problema che dobbiamo gestire un altro problema che mi è capitato di gestire è stato una sorta di stalker non mio non mio però una persona che ogni tanto veniva a degli eventi però non partecipava aspettava fuori e poi voleva cioè ci seguiva in qualche modo perché voleva però cioè non era una situazione pericolosa era soltanto una situazione da tenere sotto controllo perché alcune persone della community si sono un po' spaventate io questa cosa ci devo fare un'altra situazione cosa che ti racconto questa fa anche ridere in realtà però ci troviamo fuori dalla cena di uno dei meetup che organizzo considera che noi abbiamo questo make it Modena che è questa location comunale che di fronte ha una pizzeria ok è una zona diciamo di Modena abbastanza periferica però Modena è un buco non è Roma che c'è il quartiere tuo o il quartiere mio ma è un buchetto allora in questa pizzeria vabbè andiamo a mangiarci sta pizza usciamo saranno state le 11 11 e un quarto di sera una cosa del genere ci si avvicina un personaggio in evidente stato di alterazione probabilmente neanche di alcol ma di droghe che insomma inizia ad attaccare il bottone no perché volevo comprarmi una Coca Cola al bar non me l'hanno fatta comprare allora volevo entrare qui con l'accento sudamericano tra l'altro quindi non era italiano era un ragazzo sudamericano poveraccio magari uno straniero quello che che stava che stava lì o per turismo chissà per cose però era un po' alterato quindi un mio amico della community entra e gli compra una Coca Cola gliela regala lui e questo tipo si commuove no perché io non voglio che me la offri gli da la carta di credito un casino solo che era un personaggio un po' strano cioè sembrava che cioè non si voleva scollare capito poi a un certo punto e questo è da ridere chiede voi di dove siete uno gli dice io sono della Lombardia io sono di Modena poi va a me tu di dove sei io sono di Roma ah di Roma tu non mi piace in che senso perché? eh no perché da Roma in giù tutti i razzisti tutti così no guarda forse ti sbaglio io sicuramente no poi mi dispiace se ho avuto cattive esperienze però insomma infatti pure gli altri dicevano no ma che dici vabbè poi insomma lo portano via lo portano via cioè lo portano via a parlare poi dopo un po' per qualche motivo forse si era fatto tardi insomma si scolla da solo però la cosa divertente è stata questa che ci saluta poi si gira e fa eh Roma tu non mi piace però mi piace come uomo vabbè va bene lo stesso va bene lo stesso almeno mi sono salvato non ci ho avuto coltellate non ci ho avuto coltellate almeno non ci ho avuto coltellate però questo non mi sembra un problema della community è una cosa che poteva capitare anche se è riuscito con amici certo assolutamente è successo nel contesto della community è successo nel contesto della community no altre cose grosse potevi fargli una mossa di C++ e lo stendevi no? è vero infatti io ci avevo allora ci avevo il puntatore che mi usciva qua dalla tasca volevo prendergli e sbatterlo però è stato molto più rapido lui diciamo ok no poi problemi particolarmente evidenti no ci sono magari dei piccoli malintesi che succedono all'interno degli eventi ad esempio una volta abbiamo per sbaglio lasciato un vassoio avanzato del catering in un banco dell'università perché ci eravamo dimenticati l'università si è abbannato a vita da tutti gli eventi ah madonna ok ci siamo pure scusati cioè gli abbiamo l'abbiamo chiamati gli volevamo mandare i fiori crociati via croci sopra l'anno dopo 10 anni di community e di eventi è un è un come dire un report abbastanza buono nel senso cose brutte non hai viste passiamo un po' all'ML Modena yes questa è un'altra secondo me un'altra passiamo un po' dal fatto C++ per una vita che ci azzecchi con l'ML allora io arrivo appunto nel 2019 ad entrare in Tetra Pak per darti un po' di giusto per darti il contesto in Ferrari mi ero un po' diciamo stufato perché lavoravo più o meno sempre nello stesso progetto lavoravo sempre nello stesso progetto anche nello stesso sullo stesso aspetto del progetto perché poi c'eravamo un po' settorializzati avevo voglia di vedere qualcosa di nuovo e quindi arriva tramite network quindi altra pillola che posso dare career development se volete il network per me è la valuta che non perde mai valore cioè per me il network è la cosa più importante per un professionista quindi il network è fondamentale quindi io tramite network trovo senza cercarla in realtà questa opportunità ok quindi mi si prospetta questa opportunità di lavorare sull'intelligenza artificiale all'interno di Tetra Pak arrivo in Tetra Pak mi viene naturale e qui arriviamo all'ultima fase secondo me della mia persona in quanto community man più che manager proprio community man community human being io mi viene mi viene spontaneo fare questa cosa qua io devo imparare questa nuova tematica perché l'ho studiata all'università ma l'ho studiata tipo nove anni fa quindi praticamente è cambiato tutto devo rimettermi in gioco come faccio a me viene spontaneo dire con le community cioè questo è il mio modo per anche tastare il mondo ok quindi è stato una community senza che ancora fossi perdo il campo sì allora il primo step è stato ma c'è già una community 21 di che anno parliamo? 19 fine 19 ed è c'è anche un altro un altro aneddoto poi tra virgolette divertente non proprio subito dopo comunque c'è già una community a Modena la cerco perché io non sono uno di quelli come era la domanda iniziale ma te la reinventi la ruota o la o la usi io la uso cioè la uso anzi meno lavoro per me no non ci sta la community a Modena mi dispiace e vabbè accollamose pure sto praticone e fammo pure sta community che te devo dire e quindi mi sono messo a fare sta community però stavolta ho detto mi porto a bordo subito persone che in qualche modo vogliono lanciarla per bene e vogliono portarla avanti cioè io mi sto facendo anche anziano quindi voglio provare in tutti i modi a prendermi un po' dei bastoni della vecchiaia e quindi esatto eccoli qua i fantastici sei coinvolgo colleghi ed ex colleghi quindi la cosa bella di questa cosa secondo me è che io creo anche un'unione un'unione tra due aziende però in una maniera assolutamente spontanea cioè non c'è un legame di business ci sono persone che fanno delle cose insieme inevitabilmente questo rapporto ha degli impatti positivi su entrambe le aziende su entrambe le organizzazioni perché per l'effetto per la reazione a catena per l'effetto domino chiamalo come vuoi che ti dicevo prima le persone di entrambe le aziende vengono a questo evento questi eventi che noi organizziamo e questo è un beneficio per sprizze chat gpt bellissimo questo è stato l'evento ma questa gente che c'è questo abbiamo fatto 230 persone a questo evento è stato ecco io non mi aspettavo tutto questo boom con un supporto stellare da parte dell'università perché Giorgia che è la ragazza che vedi qua in basso a sinistra Giorgia Franchini che è stata la nostra coorganizzatrice che ha fatto di tutto e di più per assicurarci il meglio possibile all'interno dell'università ci ha fatto realizzare un evento tra l'altro finanziato con dei fondi dell'università quindi anche lì è un evento gratuito la gente ha mangiato e bevuto a scrocco io perché se mangiava e se beveva gratis quindi assolutamente e quindi e poi c'erano c'erano tutto ed era un evento di questo qua è stato un evento di networking quindi un evento di interazione con le persone la cosa bella che ho fatto secondo me almeno mi è stato detto che è stata una cosa bella non perché mi voglio da solo no per essere delle lodici ma credo mi è stato dato un bel feedback ho avuto quest'idea visto che era un evento di networking dimmi anche tu cosa ne pensi ho avuto l'idea di condividere con le persone presenti nella fase iniziale dove mi vedi al microfono lì a sinistra ho avuto l'idea vedi nella slide di condividere un po' di pillole della mia esperienza di 11 anni di come si fa networking a questi eventi cose pratiche cose pratiche tipo che domande fare per rompere il ghiaccio ovviamente mi conosci mi stai vedendo da questo video pensavi di essere al corso di yoga io non ce la faccio essere serio lo sai mi vedi pure oggi se non hai droppato i follower perché l'hanno preso per una cosa tutta l'inigia questa l'hai rubata tipo alla pick up community queste cose del tipo come rimorchiare che so sì sì ho cambiato soltanto i testi però di fatto l'argomento te le puoi rigiocare ovunque ma poi c'era un'altra slide che era e qui c'è magari te la potrei pure condividere c'era anche il meme quello sai del cervello che si espande non so se ce l'hai presente i quattro modi per staccarsi da una conversazione che anche quella è carina tipo primo modo devo andare in bagno oh me scappa devo andare in bagno secondo modo oh sono arrivati i fritti andiamo a assaggiare i fritti e quindi te stacchi e andiamo dai fritti problema che succede se dovresti per buona educazione dovresti offrire di portare qualcuno di portare qualcosa alla persona con cui parli attenzione e qui arriva la pillola seria opportunità perché porti qualcosa alla persona ma ti assicuri anche di portare un'altra persona nel networking con quell'altra quindi anche qui piccola pillola seria ok quindi questo tipo di cose è qua e qui ecco un evento molto bello altri eventi che noi facciamo con ML Modena di cui uno ce n'è domani se volete sono eventi domani c'è un evento Modena domani c'è un evento domani viene un relatore domani viene un relatore parla di un argomento e poi si va a mangiare insieme quindi la il motivo vero per fare questi eventi Rip è che se ma magna dopo io se no non ci andrei non l'avrei fatta in un'altra community e anche in live c'è anche ci sono tutti i video ci sono tutti i video potete trovare tutto allora l'aneddoto che ti volevo raccontare di questo qual è quando siamo partiti era la fine del 2019 io poi anche lì un po' con l'esperienza già fatta avevo già in mente tutti gli step da fare no? compra fai un logo compri il sito fai il sito eccetera ovviamente con grande aiuto anche da parte dei ragazzi ci mancherebbe dovevamo fare il primo evento dovevamo fare il primo meetup e mi appoggio alla community dove faccio dove faccio put in gym quindi location problema del location risolto almeno per il primo evento dal secondo in poi siamo andati all'università perché ci hanno ospitato però il primo evento questo è divertente tra virgolette divertente in realtà doveva essere a metà febbraio 2020 vediamo se ti dice qualcosa arrivano gli amici della Ferrari i due ragazzi che fanno parte dello staff e mi dicono senti ci stanno i testi invernali non ce la facciamo possiamo spostarlo a fine febbraio sì era gennaio che problema c'è spostamolo a fine febbraio che ce frega ero pure andato già a pagare l'acconto per dei pasticcini da portare per il primo evento già davano 50 euro al forno arriva l'ultimo weekend non mi ricordo insomma arriva qualche giorno prima dell'evento inizia qualche numero in Mila Romagna perché in Mila Romagna inizia prima rispetto ad altre parti e quindi pure il comune mi dice Marco l'evento lo dovete annullare chissà quando era il primo evento era il primo evento madonna siete stati forno al forno ripiate 50 euro prima di tutto perché insomma prima di tutto quello comunque a parte di scherzi vado a riprendermi 50 euro che erano ancora appesi come acconto manco se ne erano messi in casa stavano appesi su abba checa dicono come cacchio vabbè ma la verità le messe di soldi e quindi l'evento salta l'evento salta il problema è che noi non ce la sentiamo di partire online da subito mentre le altre community le potevo continuare cioè l'Italian CPP la potevo continuare a fare online e mele modena non me la sentivo perché dovevamo partire avevamo preparato come se di cose interessanti di persona avevamo preparato siamo partiti alla fine del 2020 alla fine online perché non c'erano altri modi abbiamo fatto un bellissimo evento online comunque con anche l'interazione perché usavamo degli strumenti non so se ti sono capitati mai di tavoli virtuali Remo non so se l'hai mai sentito Airmeet questi strumenti che sono saltati fuori durante la pandemia esatto questa è l'introduzione alla community esatto 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 e qui c'era questa cosa queste sono due sessioni che abbiamo tenuto introduttive qui c'è anche un po' di mio racconto vedi di mio racconto sulla mia esperienza delle community c'è questo c'è quell'immagine del seme che viene piantato perché per me l'essenza della community è molto semplice io sono un giardiniere che coltiva un giardino creo delle condizioni che funzionano bene da sole cioè questo è il mio ruolo quindi c'è quell'immagine del seme per questo motivo e poi da lì abbiamo aperto i tavoli virtuali le persone hanno fatto hanno fatto networking virtualmente quello che si faceva all'epoca qui c'era la seconda parte della sessione con Sara e Mattia che hanno raccontato un po' di cose di AI cioè gli altri erano ascoltatori passivi commentanti gli altri erano ascoltatori passivi in questo caso qua ma avevano avevano la piattaforma che si chiama Remo che è una piattaforma che in quel momento era a pagamento e che ci veniva offerta dalla C++ Foundation quindi anche lì il gioco del network quanto è importante potevano commentare live come stanno penso facendo i tuoi ragazzi adesso su Twitch su questa piattaforma e quindi si poteva interagire su questa piattaforma e poi si aprivano i tavoli virtuali quindi i tavoli dove la spontaneità delle community è stata sostituita dalla randomicità anche su quello io feci un talk proprio durante la pandemia ad un community manager summit italiano dove ho parlato della mia esperienza community in 30 minuti lo trovate linkato anche sul mio LinkedIn si chiama spontaneità l'ingrediente segreto delle community dove parlo anche di questo aspetto alla fine della randomicità che però non rimpiazza secondo me la serendipita sta diventando sta facendo meta meta analisi sul senso delle community cioè per te stai studiando le dinamiche da community io ad un certo punto soprattutto quando ho aperto le porte a Coding Gym e l'ho ampliato ho fatto una retrospettiva molto profonda su perché faccio le community qualcosa c'è sotto anche a livello psicologico studiando libri e altro e quindi ho scoperto un po' di cose anche perché per fare una community quindi secondo me bisogna conoscere un po' di queste tematiche perché le persone sono tutte diverse bisogna valorizzare questa diversità oggi sai si fa questa si fa facile a dire dobbiamo essere tutti uguali in realtà siamo tutti diversi cioè il bello in realtà è non limitare la diversità non è rendere tutta la diversità uguale e non porre un limite non fare in modo che ci siano delle differenze a livello ad esempio di salario di tutto quello di cui si sente oggi però la differenza va valorizzata secondo me nelle community è fondamentale perché il mio concetto di divertimento che io prediligo nelle mie community può essere diverso da me da te da un'altra persona se io faccio una battutaccia e ogni tanto le faccio io potrei colpire qualcuno nell'inconscio e lui neanche o lui o lei non se ne rende conto però l'ho colpito è un problema questo è vero anche a livello corporate in tanti altri ambiti assolutamente quindi anche molto rispetto per tutte queste campagne che stanno facendo perché c'è anche un altro concetto importante lo stereotipo il pregiudizio tutte queste cose qua il pregiudizio in realtà è qualcosa di molto innato questa è una cosa che ho scoperto leggendo intelligenza emotiva che è un libro importante quindi perché è una cosa quasi ereditaria cioè ci vuole un po' per romperlo il pregiudizio ci vogliono delle generazioni però tu puoi rompere il comportamento quello lo puoi rompere quindi quello che stanno facendo oggi stanno rompendo il comportamento correttamente cioè per rompere il pregiudizio tu devi rompere il comportamento e quindi io questo lo capisco c'è anche noi quando dobbiamo parlare anche tu Giorgio quando devi parlare al tuo pubblico adesso non so se è una cosa che fai però stare attento ad esempio al genere quando parli al plurale ciao a tutti ciao a tutte non è banale in italiano ci sono delle diatribe ci sono delle discussioni in atto come lo risolvo io a volte mi sbaglio però altre volte cerco di proprio di non entrare manco in quel problema lì cioè tipo vi do il mio benvenuto è neutrale da me è facile tutti i uomini è molto facile da me se hai tutti i uomini qualche ragazza qualche ragazza c'è però ho capito per dirti che sono temi importanti quindi quello che dici tu hai fatto un'analisi una retrospettiva interna l'ho dovuto fare per me ma anche per gli altri cioè perché io comunque mi sento ti ripeto un giardiniere io devo cioè io non devo influenzare gli altri devo creare delle condizioni affinché gli altri stiano bene per me questo è lo scopo poi se tu ci fai caso Giorgio se tu vai nel nel giardino di Versailles no tu cos'è che ammiri ammiri il giardino di Versailles non te ne frega una mazza del giardiniere e dei giardinieri che hanno lavorato al giardino di Versailles è un bellissimo approccio è un bellissimo approccio questa è la mia idea che ti spiego anche voi è difficile trovare persone che non prendono la cui figura non poi non diventa in qualche modo no cioè anch'io ho la mia community però la mia presenza è cioè se vado via io la mia presenza è fondamentale e sto pensando alla enorme diversità la mia community è molto digitale è molto virtuale non è fisica anche se faccio il possibile per creare anche dei raduni molto pochi ma qua quando riesco e quando vado in Italia ci provo l'aspetto del meeting in person lo trovo molto fondamentale e cerco di limitare il concetto di parasocialità nel senso che a me piace poi quando c'è qualcuno che è molto presente nella community ci instauro anche rapporti uno a uno però lo voglio vedere in faccia lo voglio parlarci trovo che sia molto bello e tu stai ad un altro livello tu stai però a livello di spersonalizzazione a livello di creare una community e cerco di primo non ne trai alcun beneficio diciamo economico secondo puoi essere rimosso dal loop e in teoria le cose dovrebbero funzionare se non la mia critica è sul però essendo tutto su base volontaria un certo punto se vai via tu e ci devi la passione tu la community muore o quantomeno se non trovi altre persone motivate come te però è super affascinante questa cosa cioè sei un patrimonio dell'UNESCO dovrebbero fare allora diciamo poi non è che io adesso mi metto allora intanto è vero che non ho un ritorno economico però bisogna essere onesti e dire ho un ritorno di altro tipo indirettamente cioè ad esempio il lavoro che io ho ottenuto in Tetra Pak intanto è arrivato col network il network io l'ho ottenuto dalle community prima di tutto poi diciamo che io quando mi sono andato a presentare all'interno dell'azienda Tetra Pak o qualsiasi altra azienda in cui ti puoi presentare io ovviamente mi presento come Marco Arena software engineer esperienze in Ferrari esperienze in Tetra Pak quello che ti pare ma ho 11 anni di esperienza con le community chiaro è comunque un bagaglio che io ho io sono anche Microsoft MVP per esempio che è un titolo che viene dato a delle persone che per Microsoft sono rilevanti anche se io poi non è che vendo prodotti Microsoft semplicemente Microsoft ci tiene come Google magari ci tiene Amazon ci tengono a questo questo discorso Raffaele Rial io lo hai da 40 anni Rial è il decano degli MVP in Italia per dire uno dei decani quindi è ovvio che io devo essere onesto cioè io ovvio che so di avere un ritorno però è un ritorno che io ad oggi non lo voglio aspettare ad un profitto economico perché perché il mio motore lo ripeto è la relazione umana il fatto che mi diverto mi esprimo ovviamente sì ci sarebbe come dici tu un motivo di scalare per esempio se volessi fare un evento in un albergo quanto mi costerebbe cioè gli sponsor li trovo difficilissimo trovarli per farlo dentro un albergo una volta l'abbiamo fatto con Develer nel 2016 però loro erano partner di questo albergo hanno fatto un bellissimo investimento sono stati grandiosi però non è banale io lo so poi ti ripeto il mio motore ad oggi è ancora un motore tecnico io finché se non ci metto un po' di tecnica per esempio coding gym è un format tecnico se tu non programmi più sì puoi farlo uguale però è peccato cioè è peccato a me non piace cioè non mi piace neanche prendere in giro le persone questo è il punto cioè non mi metto mi dice che nel tuo prossimo lavoro sarà più sarà più l'aspetto community management che altro cioè in qualche modo il prossimo lavoro sarà un salto diciamo di potrebbe oltre potrebbe essere può darsi che quello che hai o l'esperienza che hai fatto cioè comincerà ad avere un peso molto di più nella tua application l'essere un community manager seriale potrebbe essere poi se si avvera ti do un chip di Reperrol è pronto un L7 L7 in Google è tanto già L5 sarebbe se si libera il posto di Sio posso andarci non è un problema facciamo guarda che la gente chiede la testa di Sundar non è poca senti ma sta ML quindi sei riuscito o hai ingambato a un certo punto oppure allora ho ingambato perché la cosa bella dell'AI io l'AI l'ho presa dal punto di vista software diciamo così quindi io lavoro con persone che ne sanno tantissimo di AI quindi quelli che fanno i modelli quelli che sanno veramente tanto di reti io l'ho presa dal punto di vista metti ste reti in produzione cioè ok ne fai il modello ne usi PyTorch ne usi Tensor Clock quello che vuoi c'è una ricerca dietro stellare non sto banalizzando c'è una ricerca della madonna cioè c'è il mio amico collega Mattia che è un fenomeno e che ovviamente non cioè non fa altro che leggere paper studiare paper Mattia Verasani si chiama se lo volete cercare te lo dico perché così lo bombardano pure a lui perché ieri mi prendeva in giro e hai ricevuto le richieste da LinkedIn sì 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 non ti faccio bombardare pure a te comunque a parte gli scherzi io quindi questa AI l'ho craccata dal punto di vista software quindi c'è questa complementarietà tra me e il resto diciamo del mondo ancora scrivi codice in C++ io scrivo ancora codice per esempio io C++ lo uso molto con Onyx Runtime Onyx tutto il mondo della AI interoperabile ho fatto anche un talk un paio di anni fa proprio con Mattia se lo potete trovare su YouTube che si chiama Interoperable C++ AI in C++ e parla di questo cioè parla anche di uno dei modi di usare C++ con AI che è questo modo qua ci sono delle esigenze particolari ovviamente all'interno dell'azienda per cui C++ ha senso usarlo per una questione come dicevo all'inizio di performance di ecosistema che c'è dietro quindi di solidità se vuoi dello strumento nonostante ci siano le pecche che abbiamo detto ci sono ovviamente dei problemi evidenti anche la Casa Bianca ha fatto uscire un articolo recentemente su questo qualcuno ha chiesto di in realtà no questa è un'altra cosa sulla news dove lo è dove lo è cd se non sbaglio lo è c'è un problema qui su questa tazza questa tazza c'è un problema dietro c'è scritto empty c'è scritto empty your cup che faccio procedo? eh certo 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 sempre ma no non così non così non così ah ok ok non è era mezza vuota o mezza piena? era mezza vuota vai diciamo che era mezza vuota allora Marco questa sulla news degli ultimi giorni dove lo ncd sconsiglia era oe cd se non sbaglio comunque c'è erano varie varie organizzazioni che ultimamente stanno stanno bloggando su queste cose qui allora io ho questo punto di vista prima di tutto il c c plus plus hanno delle valenze molto peculiari cioè nel caso per uno dei motivi per dire se ti nomino un'azienda come Ferrari mi diceva perché Ferrari usano si plus plus uno dei motivi è il legacy quindi uno dei motivi di tutte le aziende del mondo che hanno si si plus plus è che molto spesso non se ne possono liberare che non hanno neanche la forza questo però è brutta eh dai diciamo che questo è che il cobol stava così però uno dei motivi per cui magari l'investimento non arriva uno dei motivi è quello lì diciamo bisogna essere onesti però è uno dei motivi non è l'unico che cosa succede se io dovessi partire da zero con un progetto nuovo devo valutare diversi aspetti ok uno dei miei aspetti è quello come dicevo prima quanto è solito l'ecosistema per me l'ecosistema vuol dire compilatori quanto sono maturi i tool gli ambienti di sviluppo le aziende che possono darti le aziende che ti possono dare consulenza su questo su questa tecnologia quindi c c più più quello che vuole e ce ne sono tante ovviamente C++ io lo dico sempre da un grande C++ derivano grandi responsabilità questo è il mio mantra sul C++ che vuol dire vuol dire che il C++ è molto vasto ed è molto pericoloso c'è la frase col C ti spari sul piede in C++ ti diri via tutta la gamba come fai? lo devi limitare come? ad oggi il come è molto manuale cioè coding standards guidelines per code review analisi statica tutte queste cose qua un domani si spera che arriveranno questi benedetti profili dove ci saranno delle regole molto più formali dentro il linguaggio arriveremo non lo so assolutamente non lo so non è detto neanche che C++ vadano usati per forza nel senso se non ne hai veramente bisogno no ma perché assolutamente io non sono un sostenitore di questo assolutamente nel mio caso io dovevo usarlo nel mio caso perché mi sentivo di doverlo usare anche per un discorso di solidità dell'ecosistema perché va via Marco Arena metti chi lo prende in carico se lo fa in RAST chi lo prende in carico quante aziende di consulenza ci sono soprattutto parlando del 2019 bella non l'ho mai vista questo punto di vista sulla solidità anche del fatto che delle aziende di consulenza ti dico una cosa paradossale anche qui non perché voglio fare il moralista ci mancherebbe però è una cosa paradossale che secondo me può essere interessante il lavoro in generale di chiunque ha come fine il non essere richiamati cioè che vuol dire se tu il lavoro lo fai fatto bene cioè ti richiamo quando c'è un nuovo problema ma non in google c'era il motto del rendersi degli esseri soprattutto rendersi obsoleti 18 mesi cioè in teoria il motto era nel mondo reliability è che tutti i task che stai facendo devi automatizzarli in modo che il te fra 18 mesi dovrebbe avere tutte le cose che facevi 18 mesi prima essere fatte automaticamente o messe in pipeline e quindi non essere più necessaria la tua presenza poi nascono i problemi però non è mai così effettivo non è mai così evidente però ecco da quel punto di vista c'è anche questo discorso qua cioè il fatto che se io sviluppo qualcosa me ne vado chi lo prende secondo me quando arrivi ad un certo livello di maturità lavorativa secondo me devi portare anche questa domanda qua anche se poi è controproducente perché intendiamoci bisogna essere onesti se vuoi tenerti stretto il lavoro soprattutto se sei in certi ambienti sei un puro sei un puro perché in teoria esatto no rendersi indispensabili però ovviamente dipende però questa è un po' un'idea a livello di azienda secondo me vanno prese anche delle decisioni con questa cognizione di causa qui lo faccio in Rust mi diverto lo imparo per esempio c'era un amico il Ferrari che aveva fatto tutto in Go perché si voleva imparare Go però era da solo a farlo in azienda non c'era nessun altro che faceva Go e ha fatto tutto un software enorme in Go a un certo punto hanno dovuto cercare programmatori Go in tempi non sospetti a ripeto quindi erano anni in cui Go ancora nemmeno era tanto famoso pericoloso o non pericoloso boh potrebbe essere ho altra domanda dal litroscalo sì ma ho tante domande salvate qualcuna ora te la faccio in chiusura fai tanto io oggi sto pure da solo qua non c'ho nessuno ok io sto a crollare dal sonno ma ancora 20 minuti reggo poi dopo comincio a crollare ho visto il tuo shift verso l'ML rimanendo legato a se non hai pensato di andare a lavorare a livello di chip schede di inferenza di modelli di più allora è interessante sicuramente sono cose che in qualche modo stiamo esplorando ti do questa diciamo questa informazione però adesso senza che entro troppo in alcuni dettagli che francamente non so neanche se può divulgare però in Tetra Pak c'è una diciamo una un insieme di di hardware che noi utilizziamo come nice to have cioè non siamo vincolati per forza a quello però il nice to have è di usare quell'hardware lì ed è un hardware basato comunque su Windows in qualche modo quindi non è un hardware real time però ci dà un po' di flessibilità questo significa che a livello di chip è una CPU normale un Intel per capirci quindi non è che abbiamo chissà che hardware specializzato però una branca della nostra ricerca interna è anche quella di muoverci su delle cose un pelino più specifiche però ad oggi non è così richiesto per noi però sì sicuramente è un ambito che mi interessa sicuramente sì grazie idroscalo di Milano idro lascia qualche tipo a rip che è un ragazzo padre per favore non mi serve non mi serve non mi serve tantissimo queste posizioni ok quale quella del intende dell'immagino che intendeva livello di scelta sì chiaro ti posso fare qualche domanda così a bo così de botto qualche consiglio da Marco per imparare ML libri video altri metodi creare una community primo metodo creare una community quindi se nella vostra città non c'è una community di ML no se c'è unitevi alla community se non c'è crearla beh allora ci sono tanti bei corsi Andrew Heng per dirne uno insomma ci sono una meraviglia di corsi quello che ho fatto io è stato sì vedermi qualcuno di questi corsi qua in particolare quello di Andrew Heng per dirne uno Andrew Heng è scritto per chi non lo conoscesse sì credo lo conosco il famoso di corsera penso che sia il suo esatto tutta corsera sì arrivo fino a un certo punto nel senso che non è neanche il mio ruolo quello di fare il modello in sé quindi arrivo ad un punto per parlare è fisico il taglio è taglio giusto ce l'avevo insomma non sto bloggando sull'actor model non a caso insomma c'è un motivo quindi no per approfondire quei temi comunque se volete qualche dritta in più sicuramente anche proprio su ML Modena se vi iscrivete ad esempio al Telegram di ML Modena ci sono ogni tanto anche dei consigli su questo però di sicuro insomma ho anche dei colleghi se vi interessa saperne di più sull'aspetto proprio di modellazione domanda di carriera per Marco mi hai pensato di applicare una fang o non sì ci ho pensato ci ho pensato sì 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 ci ho pensato ci ho pensato non mi dica sempre scusa non mi sento ancora preparato queste cose qui non mi sento ancora no in passato l'ho anche fatto però sono andato in hiring freeze quindi cioè nel senso avevo fatto tipo uno step solo poi hanno frizzato tutto e ultimamente vabbè sto bene più o meno dove sto quindi non ho provato a spostarmi però in futuro chissà perché no te la faccio io una follow up cioè tu hai sempre lavorato in Italia hai mai pensato di esplorare l'estero ti manca niente no no mi interessa mi interessa mi interessa sì 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 a me la mia compagna interessa andare all'estero quindi assolutamente succede beh a questo punto ti faccio una domanda cattiva ma che non è cattiva in realtà la gente vuole sapere quanto guadagnavi in Ferrari oddio la gente vuole sapere quanto guadagnavi in Ferrari allora in Ferrari se vuoi ti racconto a grandi linee più o meno com'è strutturato lo stipendio in un'azienda come Ferrari che è quello forse ancora più interessante e poi anche il work life balance e poi anche il work life balance allora intanto ti racconto giusto un aneddoto veloce su Ferrari cioè qual è la frase che ti dicono in Ferrari quando esci alle 18 che fai mezza giornata e te gli rispondi perché sei un veterano e credo 12 ore sono mezza giornata preciso puntuale perché hai già fatto 12 ore hai già fatto 12 ore allora adesso ovviamente io sto estremizzando allora dal mio punto di vista di softwareista in quel team ci sono stati dei picchi di lavoro però ti dico la verità non è che mi sono avvi cioè tutti gli otto anni e mezzo mi sono spaccato la schiena che tornavo a casa alle 10 assolutamente no nel mio caso beh sappi che sognavi di lavorare nei videogiochi e nei videogiochi era così cioè assolutamente ma molti weekend molti weekend sì sì no ma poi è capitato anche di fare tardi di lavorare a volte il weekend però è capitato con il consenso questa cosa qua capitava anche di vedere colleghi di altri reparti andare a cena e tornare è capitato delle volte eravamo vicini a dei disegnatori di componenti che andavano in penso che magari alle 7 stavo ancora in ufficio se ne andavano e alle 8 magari alle 8 stavo mentre ancora in ufficio tornavano e gli dicevo che ti sei scordato qualcosa e no io ho della roba da consegnare magari facevo mezzanotte soprattutto in certi picchi di lavoro no allora il work life balance di Ferrari com'è allora il work life balance di Ferrari io parlo sempre fino al 2019 perché poi so che qualcosa è cambiato ultimamente stanno cercando di farci più attenzione allora parlo sempre di Formula 1 non parlo di GT perché conosco cose per sentire dire Formula 1 e GT ma le macchine normali che vedo per strada si chiamano GT sono macchine di Gran Turismo io parlo solo di Formula 1 perché è l'esperienza che ho vissuto quella Gran Turismo come esperienza l'ho sentita come racconto quindi non mi sento di condividerla perché ha poco senso è di seconda mano l'informazione di prima mano vi posso dire questo quando io ero dipendente perché poi da dipendente ho visto gli altri aspetti di Ferrari quindi ero dentro proprio come dipendente le HR di Ferrari Formula 1 quando io me ne sono andati erano due persone ok allora non è vero due persone però stiamo lì cioè purtroppo c'erano tipo due dipendenti qualche consulente insomma all'epoca era una situazione di questo tipo adesso sono sicuro che sia cambiato che vuol dire questo vuol dire che poveracci due persone tre persone non ce la fanno a gestire un carico di mille persone di dipendenti quindi ovviamente che succede? succede tante iniziative anche che magari un'azienda come Tetra Pak promuove perché c'è un team dedicato al work-life balance in Tetra Pak Ferrari non ce l'aveva Formula 1 quindi un po' questa cosa era carente poi ovviamente avevi anche tante cose delle iniziative ce l'avevi comunque c'era il cinema gratis a Maranello l'auditorium una volta ogni due settimane c'era delle cose però chiaramente alcune cose purtroppo no non investivano troppo su quello fino al 2019 ok quindi un po' senti la pressione è un ambiente competitivo quindi è un ambiente in cui adesso non voglio usare cose volgari però insomma vuoi far vedere se ce l'hai più di qualcun altro e quindi è un po' un ambiente dove c'è competizione sia dentro che fuori l'azienda ci sono dei reparti più pochetti di altri chiaramente però quello che dico io è che è un ambiente anche molto bello la cosa bella di Ferrari che mi ha colpito io non ero un fan del motorsport e non lo sono tuttora seguivo qualche gara però quando ero in Ferrari le seguivo di più adesso seguo di meno la cosa bella di Ferrari ed è la cosa più forte di Ferrari secondo me è che la passione che le persone hanno è talmente forte che anche se tu non la vivi come loro la riesci a condividere cioè è una cosa molto bella è un'arma a doppio taglio viene venduta come currency al posto dei soldi o del work life balance il mondo videogame funziona così lavori migliore perché o Stef ha un videogioco è la passione è un amico lavoro vero però è quello appunto io non l'ho non mi sono fatto tra virgolette comprare per questo perché non l'avevo questa passione perché è peggio perché oltre perché ti becchi gli aspetti negativi si lavora di più magari non è altissima però se fa per passione tu manco la passione non è il massimo la passione esatto poi quando mi sono trovato dentro ovviamente mi sono appassionato di più al dominio mi sono appassionato alla passione degli altri se vuoi nel senso ho iniziato a condividere anche io questo questo tifo per l'azienda per la Ferrari eccetera quindi è stata sicuramente sono stati anni comunque molto interessanti anche anni molto belli quindi adesso uno scherza anche per alimentare un po' lo stereotipo si lavora tanto è vero si lavora tanto io ricordo degli amici che a volte non si prendevano la malattia ma si prendevano le ferie perché il capo gli diceva qui non ti puoi ammalare per dire vabbè veramente sono casi isolati però molte persone come dici tu si facevano comprare per lo stemma per il cavallino quindi ma è normale cioè nel senso è un brand fortissimo forte al mondo perché poi risulta il tuo curriculum o qualcosa del genere beh non lo so come software quello che dico a tanti ragazzi ragazze che mi chiedono Ferrari lo consiglio non lo consiglio lo consiglio assolutamente sì lo consiglio è una bellissima esperienza se potete andate a farlo faticosa certo un po' faticosa poi negli anni è cambiata secondo me ultimamente le cose si stanno ristabilendo perché c'è un nuovo amministratore delegato che viene da ST Microelectronics che è un'altra bellissima realtà quindi sta cambiando i miei ex colleghi mi dicono dall'interno che delle cose stanno cambiando le cose cambiano cioè le cose difficilmente rimangono sempre uguali cioè sì succede però azienda come Ferrari sta provando anche a rinnovarsi quindi se c'è l'opportunità per qualcuno di voi io vi dico coglietela perché sono belle esperienze anche di vita anche umane sono belle esperienze anche stare in un contesto complicato ti fa crescere io ero da solo era morta mia madre nel 2013 ho dovuto le comuni mi hanno aiutato in retrospettiva io ho scoperto che le comuni sono state un motore per me cioè io avevo bisogno di un cogetto di vita importante per portarmi avanti le comuni mi hanno aiutato ma io magari a Maranello stavo da solo la sera avevo tempo a disposizione mi ricordo che ci sentiamo un po' di più in quel momento appena trasferito in effetti la vita sociale diciamo a Maranello non è al massimo ogni tanto si usciva con colleghi però chiaramente Maranello poi è un paesino tutto intorno alla Ferrari però è chiaro capito che anche questo aspetto qua è importante secondo me per una persona per crescere c'è anche trovarsi in un contesto di questo tipo poi i servizi a misura d'uomo ci sono quindi insomma si vive anche bene diciamo la verità non si vive a Modena anche a Modena si vive bene ma lato lato compensation lato pagavano almeno bene oppure pagano bene Ferrari paga bene Tetra Pak paga bene pagano bene Ferrari ha questo contratto un po' particolare ci sono tre numeri nel contratto lo stipendio base quindi quella che si chiama la RAL il RAL reddito non è lordo il bonus di produzione che è uguale per tutti che in tempi non sospetti era di 5.000 euro poi Marchionne per due anni l'ha dato doppio quindi ci siamo ritrovati invece che 5-10k in più in busta paga per due anni adesso credo di default sia 12 ho letto sul giornale credo ok ma è indipendente dalla RAL sia per lo spazzino che per indipendente dalla RAL è un premio di produzione per tutti i dipendenti uguali e poi c'è un altro numero che è in base alla tua RAL che è una percentuale in più sulla RAL che è un patto di stabilità cioè un patto che ti fanno firmare dandoti una cosa tipo il 40% in più per cui tu sei vincolato a stare con la Ferrari per 3 anni e questi contratti si firmano questi patti si possono rinnovare ogni 3 anni cosa vuol dire arma a doppio taglio torniamo all'arma a doppio taglio bello bell'incremento di stipendio per 100% sì sì bell'incremento di stipendio però attenzione dopo i 3 anni se non gli piaci ti tolgono il patto torni alla RAL ok quindi tu in 3 anni ti sei fatto uno stile di vita non gli piaci più non lo cacciano via ti tolgono il patto perché il patto è una scrittura integrativa assolutamente lecita assolutamente lecito quindi per carità di Dio non sto dicendo niente però è un dato di fatto e ho amici a cui è stato tolto il patto e se ne sono andati alcuni sono rimasti con lo stipendio di portata borderline mobbing non è mobbing non mi sento di dirti ma la RAL senza patto è comunque una RAL competitiva è ragionevole per me è una RAL buona per me è una RAL buona però caso per caso va sul caso per caso poi dipende da ok per esempio io nel mio caso ti racconto ti racconto anche un po' la negoziazione come è stata è stata che io venivo da vari anni di consulenza con l'azienda che mi pagava tutta la casa cioè mi pagava l'affitto mi pagava le bollette quindi quando sono arrivato sul tavolo dei risorsi umane gli ho detto quando mi fate l'offerta io ho pure ste carte bollette affitto quindi vedete voi fatemi un'offerta consul per favore perché insomma sono tanti anni che stanno perdendo tempo certo all'inizio hanno provato a farmi un'offerta un po' farlocca devo dir la verità gli ho detto vabbè ci penso cioè in maniera molto tranquilla ho detto ci penso poi dopo due mesi cioè dopo un mese sono tornati con un'offerta buona equiparata dopo un mese wow un mese dopo perché c'era lo stacco estivo c'era lo stacco estivo c'erano le ferie estive di mezzo ok prima delle vacanze e poi mi hanno dato la risposta un mese dopo più o meno però stipendi comunque buoni puoi condividere la prima negoziazione oppure non hai voglia di mettere numeri ma sai che secondo me visto che ho poi il primo cioè l'unico contratto che ho fatto veramente come dipendente Ferrari è stato cioè soltanto quello quindi di fatto non è che c'è chissà che a parte manco mi ricordo esattamente i tre numeri come erano io poi non avevo il patto all'inizio me l'avrebbero offerto avevo l'estensione del preavviso che erano un po' meno soldi e quel numero magari te lo posso dire quei soldi in più erano tipo un ordine di 15k perché non erano una percentuale di RAL era una cifra fissa ok ed erano sei mesi di preavviso cioè invece di avere un mese di preavviso due mesi ce ne avevi sei però ti danno più soldi ma eri un po' più vincolato non potevi uscire lì un po' come un deposito vincolato sì praticamente sì quando sono andato in Tetra Pak Tetra Pak ha avuto la pazienza se vuoi di aspettarmi sei mesi nel momento in cui mi sono dimesso da Ferrari giugno 2019 entro in Tetra Pak dicembre 2019 ok chiaro chiaramente non è banale trovare un'azienda che ti aspetti Tetra Pak mi ha aspettato quindi anche questo è un altro fattore esattamente positivo se no dovevi pagare delle penali micidiali immagino se no dovevi pagare delle penali c'erano delle percentuali della RAL cioè cose che quando firmi fondamentalmente non vuoi più vedere rimetti nel cassetto non vuoi più vedere che è impossibile quindi quindi sì però comunque ripeto fanno queste cose perché c'è un motivo dietro in realtà perché ci sono tanti segreti industriali in un'azienda come Ferrari è un'azienda molto sofisticata quindi chiaramente qualcosa devono fare anche perché poi è un'azienda competitiva ti ripeto quindi azienda competitiva significa che se le persone non performano purtroppo ti devo dire anche se le persone non piacciono a qualcun altro perché purtroppo è quella è la parte brutta è la parte brutta è spacciata per meritocrazia però spesso è anche un purtroppo sì purtroppo sì devono trovare dei modi per quello è un modo ok e senti dal 2019 quindi sono anche qui un bel po' di anni sì quattro anni quattro anni è qualcosa prossimo step community manager di Mr. Rip esatto esatto con stipendi multimilionari e non carote carote non carote Marco direi che una news che ti dico in anteprima forse qualcuno l'avrà letto su LinkedIn a breve mi trasferisco a Milano quindi continuando a lavorare per Tetra Pak però mi trasferirò a Milano avrò comunque ancora un ritorno a Modena mensile quindi nel senso ma da remoto oppure da remoto e poi tornerò in ufficio per almeno una settimanella al mese e quindi sarò anche a Modena una volta al mese quindi si crea la comunità a Milano che comunità a Milano a Milano a me piacerebbe portare i meetup C++ mi piacerebbe portare i meetup C++ a Milano ma quando sarai a Milano? sarò a Milano da aprile però operativamente penso da maggio giugno insomma vediamo un po' il tempo di sistemarmi no io a fine aprile sto a Milano una decina di giorni allora io torno sicuramente ho un viaggio programmato dove torno il 27 aprile e dal 27 in poi sono a Milano quindi ci becchiamo ci becchiamo sicuramente assolutamente quello diciamo è un prossimo step che non riguarda la carriera riguarda un po' la vita personale con la mia compagna abbiamo preso questa decisione però chiaramente il mio mondo community verrà con me Modena la tengo per esempio per Coding Gym sicuramente a me le Modena ovviamente ci sono io ma ci sono i ragazzi una settimana al mese devi star lì come farai ti darai un appartamento come farai ti darai un ponte da qualche parte metto un paglierino da qualche parte ti ospitano all'università dove farei bello quindi sì sicuramente qualche collega che scollega magari qualcuno si offre bellissimo dopo dopo questa intervista vediamo se ci avrò ancora una casa vediamo se ci avrò ancora qualcosa perché se mi arrivano le cause legali che dovrò pagare dopo questa intervista facciamo ML Milano esiste ML Milano esiste non mi ricordo se si chiama ML Milano però esiste quindi di sicuro è una cosa ci sta sicuramente a Milano non devi reinventare la ruota già lo so che fa anzi impazzirai dei potenziali community che ci stanno è uno dei motivi per cui andiamo è anche l'opportunità di connetterci con profili di persone diverse una città se vuoi che è un po' la Londra italiana come ti posso dire la Londra quindi l'idea è un po' quella poi mi ero stufato pure del poco traffico di Modena francamente volevo ritornare nel traffico romano e quindi volevo ritornare nel traffico romano eh Milano ti dice male ancora dove sti aero ma non si batte purtroppo però è bella infognata pure Milano è abbastanza infognata oh ma ti ricordi quando ci hai portato un pizzeria prima di andare a Google dov'è che stavamo in che zona era San Basilio Tiburtina sai non mi ricordo da quelle parti sicuramente da quelle parti là dove è che siamo stati siamo stati forse era aspetta te lo dico io mi ricordo io io mi ricordo che c'era una strada sterrata che all'inizio ho detto ma questo dove ci ha portato poi da lontano ho visto persone e ho detto no aspetta allora non mi danno una botta in testa sì 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 è probabile è probabile che era che era o al Gallo Rosso oppure oppure se ricordo bene l'Eldorado in zona Vigne Nuove può darsi ma mi ricordo può essere può essere comunque adesso secondo me metteranno la tua foto qui ha cenato Mr. Rip per festeggiare che andava in Google eh capirai beh sì dei tempi dei tempi dei tempi Marco è stato un piacere veramente ti dovrebbero fare patrimonio UNESCO per la passione che ci metti l'aspetto umano l'aspetto community dal vivo e via è quello che stai dando e facendo te ringrazio la scommessa secondo me il prossimo lavoro sarà più community oriented oppure all'estero però vedremo un po' vedremo se ti seguirò e chiunque vuole è mettersi in contatto con Marco ovviamente penso che il link può essere un buon approccio ma tutte le comuni che abbiamo già elencato e che poi quando ricaricheremo il video per bene su YouTube metteremo tutto in descrizione ricordiamo plus plus IT italian C++ community ricordiamo coding gym e ricordiamo ML Modena al momento yes oh per chiudere ma poi quante cacchio erano queste rotonde di Maranello 25 ti ha detto non ti ha detto non mi ha detto mica non mi ha detto mica poi dopo ha iniziato a chiedere quante pizzerie ci stanno a Modena tra l'altro vabbè questa è un'altra vabbè però dai che colloquio del cazzo possiamo dire possiamo dirlo possiamo dirlo ciao a tutti ragazzi buon notte e ci vediamo giovedì con me ciao ciao Marco ciao ciao belli ciao a tutti ciao a tutti